Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi, come già preannunciato la settimana scorsa, continuiamo il video sulle ragazze nei campi STEM e nei campi scientifici. Come vi avevo preannunciato, fare un unico video purtroppo si è rivelato un po' troppo impegnativo e per questo ho deciso di dividerlo in più parti. Oggi continuiamo perché ci sono altre domande alle quali tutte le ragazze dovranno rispondere oggi e spero che, insomma, seguirete anche la puntata del Feminist Friday di oggi. Come sempre nell'infobox trovate tutti i riferimenti per indagare un po' meglio tutte le questioni delle quali abbiamo parlato in queste puntate e spero che, insomma, anche per voi siano altrettanto interessanti. Ti sei sentita incoraggiata e supportata a perseguire il tuo percorso di studi e poi lavorativo? Io mi posso considerare una persona estremamente fortunata, in quanto entrambi i miei genitori sono sempre stati riveduti molto aperti e hanno sempre lasciato decidere a me e mio fratello per il nostro futuro. Per cui, anche quando ho deciso di intraprendere una carriera in ambito scientifico, loro non sono stati altro che positivi e mi hanno offerto sempre il loro supporto. I miei genitori mi hanno sempre lasciato ampio spazio nelle scelte della mia vita, soprattutto in quella dell'università. Mi hanno sempre spronato a prendere la decisione più congelinare del mio essere. Non ho mai sentito qualche tipo di oppressione da parte loro nel dover fare qualcosa piuttosto che un'altra. Mi incoraggiano ogni giorno a fare ciò che mi va, a disegnare la mia vita a mia immagine e somiglianza. Nonostante questo possa comportare tanti ostacoli, inevitabilmente. Seppur mi lasciano una grande indipendenza, loro sono sempre con me, sono una presenza costante. Durante la fase, infatti, della scelta di un'università, io ero estremamente indecisa tra chimica, beni culturali e già che c'ero ho fatto anche il test di medicina. Mi hanno sempre appoggiato. Se un giorno era chimica, loro erano più entusiasti di me nella scelta. Se un altro ero più propensa per beni culturali, loro si provvisavano tutto a un tratto storici dell'arte. Alla fine arrivò ottobre e scelsi chimica perché, come disse mia madre, mia motivatrice psicologa personale, se non ci provi non saprai mai com'è. E poi, qual è il problema? Se non ti piace, puoi sempre cambiare. Aspettando con non curanza gli scorrimenti di medicina, mesi dopo mesi, entravo pian piano nel mondo della chimica, tra titolazioni, ossidoriruzioni, concetti termodinamici tipo entropia, entalpia, eccetera. E il 3 aprile, dopo appunto passati sei mesi, mi arrivò una mail recante l'oggetto se è entrato alla facoltà di medicina. Ricordo ancora la sensazione di felicità, mi è stata orgoglio, mi è stata incertezza che mi percorreva la schiena. Non sapevo se saltare di gioia oppure essere preoccupata all'inverosimile per l'importanza della scelta che dovevo prendere da lì a cinque giorni. Racconto questo piccolo aneddoto per dire che solo in quella situazione i miei genitori si sono apertamente schierati a favore della mia, molto tra virgolette, plausibile carriera da medico. Dicevano che medicina ti fornisce un lavoro assicurato, hai la possibilità di salvare i miei umani, è il lavoro più nobile che ci sia, per carità, tutte ragioni valide e legittime per dei genitori. Ma comunque io ho fatto di testa mia, come sempre, più delle volte, e ho scelto molecole, atomi e tutti i vari concetti tipo chimico. Loro cosa hanno detto? Sei tu che devi studiare, è il tuo futuro. Noi abbiamo espresso il nostro punto di vista, ma questo non deve in alcun modo intaccare ciò che tu vuoi veramente. Noi saremo sempre orgogliosi di te. Da quel momento non c'è stato giorno, in questi tre anni, da quella fatidica scelta, in cui loro abbiano contestato la mia, appunto, scelta. Neanche uno, in cui mi abbiano spinto ad essere o volere qualcosa di diverso. Oltre ai miei genitori, sicuramente importante, ovviamente è stato l'ambiente universitario in cui sono entrata, in cui sono entrata, da quando frequento chimica. Nella mia facoltà, infatti, non ho notato una sottorappresentanza delle donne. Diciamo che c'è un buon 50 e 50 da tra le due parti. A livello di numeri, la situazione risulta più che incoraggiante, e per me è un motivo di stimolo. Guardando però più nel dettaglio delle cariche ricoperte, la percentuale di professoresse con ruolo di ordinario sono una netta minoranza. Questa tendenza, da quanto frequento l'ambiente universitario, cioè dall'inizio, insomma, della mia carriera universitaria, sembra pian piano invertirsi. Nell'ultimo anno, infatti, grazie al ricambio generazionale, molte professoresse hanno rotto il soffitto di cristallo, assumendo il ruolo di professoresse ordinarie. Il problema che ancora persiste, però, è nei gruppi di ricerca. Di una decina di questi, solo una donna ne ha capo. E la cosa che in più mi fa avvilire e arrabbiare è che spesso ciò avviene proprio perché un uomo a capo dà, tra virgolette, più credibilità. Nel mio piccolo, quello che cerco di fare è non frenarmi davanti a questa situazione di inferiorità sociale, piuttosto rimboccarmi ancora di più le maniche e continuare affinché aumentino sempre più i numeri delle donne scienziate. Allora, incoraggiata? Inizialmente no, perché la mia facoltà è particolarmente difficile, non più delle altre, però diciamo che è parecchio difficile. E quindi inizialmente mia mamma era... i miei genitori andavano un attimino con i piedi di piomba sul fatto che io sceglissi questo tipo di facoltà. Mentre poi hanno visto che comunque riuscivo a superare gli esami e non con un voto eccezionale, però che comunque li superavo discretamente. E quindi mi hanno sempre... E poi da lì, quando hanno visto che ero in grado perfettamente di affrontare questo percorso di studi, mi hanno sempre incoraggiata a proseguire, anzi, mi hanno sempre aiutato venendomi incontro il più possibile alle mie esigenze di studio, agli orari fogli e cercando di aiutarmi come potevano. Sì, nonostante nella mia esperienza alle istituzioni scolastiche in verità non si è mai fregato particolarmente quale sarebbe stato il tuo percorso successivo alle scuole superiori, però devo dire che i miei genitori mi hanno sempre supportata in questa scelta, facendo sempre tutto il possibile. Hanno sempre molto apprezzato la mia predisposizione per le materie scientifiche, mi hanno sempre spinta a dare il massimo, a sfidarmi, a portare avanti quello che volevo fare, addirittura, anche se non se lo ricorda, è stato mio padre a mettermi in testa e il lei ma perché non fai ingegneria meccanica e effettivamente poi sono andata su quello. Sono sempre stata molto fortunata perché i miei genitori mi hanno sempre sostenuta e mi hanno sempre aiutata nel mio percorso di studi, non mi hanno mai fatto commenti del tipo non è un campo da donne, non ce la puoi fare, sono sempre stati i primi a spronarmi e a dirmi che potevo fare tutto quello che volevo, sono stata molto fortunata. Allora, io per fortuna ho sempre avuto molto appoggio da parte della mia famiglia che ha sempre incoraggiato e sostenuto come in tutti i modi possibili il mio percorso di studi e anche poi le mie scelte del mondo del lavoro, la scelta del dottorato in un posto piuttosto che in un altro, ora la scelta di una posizione invece che in un'altra e mi hanno permesso, nonostante fosse un grosso sacrificio, di andare a fare una magistrale in un'altra città, quindi mi hanno aiutato con tutti i miei numerosi e abbastanza assurdi traslochi e sono sempre stati molto incoraggianti per quanto tendenzialmente non è che capiscano esattamente cosa faccio, ma quello non lo capisce quasi nessuno, per cui mi sono andato in pace. È stato più difficile con gli amici, soprattutto gli amici quelli di vecchissima data, quelli di infanzia, perché io vengo da un ambiente abbastanza chiuso, abbastanza ristretto su certe cose e io non corrispondevo in niente al modello che ci si aspettava da me in questo senso e quindi sono sempre stata una persona estremamente entusiasta, estremamente appassionata di tutto quello che ho fatto dallo sport, dallo studio, dalla lettura, da tutto in realtà. E questo ha sempre creato una divisione, purtroppo, con le mie amiche, quelle storiche, e anche mi ha sempre messo molto a disagio il dovermi rapportare con loro su queste cose, ma su qualsiasi cosa, proprio perché mi sentivo non capita in questo mio entusiasmo per le cose che facevo, che dovevo fare e che mi piacevano. Per fortuna, poi ho iniziato l'università, ho iniziato un percorso all'interno del campo, prima l'università, prima la triennale, poi la magistrale, e durante questo percorso invece ho incontrato tantissime persone che sono state fondamentali nel sostenermi, nell'incoraggiarmi, anche nell'aiutarmi, e questo sia a livello di amici, di coetanei, di compagnie di corso, ma anche professori, ricercatori, persone più avanti che sono state molto incoraggianti e che hanno saputo aiutarmi a valorizzare quelli che erano i punti di forza, mettermi davanti a quelli che erano i miei limiti e espronarmi a fare sempre meglio. E questa cosa è stata veramente fondamentale perché io tendenzialmente sono una persona abbastanza insicura e senza il sostegno di alcune persone, in particolare di quello che è stato il mio supervisor del dottorato e con cui tuttora lavoro, sarebbe stato molto difficile arrivare alla consapevolezza che ho adesso sul mio lavoro, sulle mie capacità, sui miei limiti, perché sono stacco e non avrei potuto fare il percorso che ho fatto con la stessa serenità e con la stessa velocità. Sì, assolutamente sì. Mi sono sempre sentita supportata in primis dalla mia famiglia e poi in secondo luogo dai professori prima al liceo e poi all'università. Mi hanno sempre spronato ad andare avanti nello studiare in questo campo tecnico-scientifico. Mi sento assolutamente fortunata e molto grata per questo perché ho avuto compagnie di corso che sono state obbligate dalla famiglia a iscriversi ad ingegneria perché molto spesso viene intesa come una facoltà con poi un posto di lavoro sicuro, cosa che ovviamente non è sempre così. Fortunatamente sono sempre stata supportata dalla mia famiglia. In famiglia fortunatamente non esiste quella cosa che viene chiamata differenza di genere. Anche mio padre non ci ha mai trattata in modo diverso solo perché eravamo delle donne. Anzi, ero talmente abituato al fatto che noi potevamo fare qualsiasi cosa e che quando sono andata all'università e ho iniziato a capire delle differenze di genere e delle difficoltà delle donne nelle scienze e sono rimasta un po' turbata sinceramente perché non me lo aspettavo. C'è da dire che siamo tre sorelle siamo tutte un po' a fare mestieri un pochino ritenuti maschili però questo non ci ha mai fermate. l'unica volta in cui non mi sono sentita sopportata è stata con la mia relazione vecchia ho conosciuto il mio ex quando avevo 17 anni siamo stati insieme per sei e ovviamente a lui non stava non andava bene che io studiassi qualcosa di maschile diciamo che mostrassi la mia intelligenza e che avessi più successo di lui. Molte volte è stato motivo di liti non mi sentivo supportata non mi sentivo apprezzata e ovviamente fortunatamente sono questa cosa sono cresciuta e ovviamente la mia vecchia relazione non mi ha mai fermata in ogni caso. Sì io sono sempre stata supportata tantissimo dalla mia famiglia anzi la mia famiglia sin dall'inizio mi ha spinto a fare ingegneria appunto perché conoscevano comunque le mie abilità e quello che mi piaceva quello in cui riuscivo bene quindi mi hanno sempre stimolato e sempre diciamo spinto nel farlo e in questo li ringrazio perché mi hanno sempre appoggiato devo dire la verità è stato un po' più diciamo ostico invece quando ho deciso di fare il dottorato lì è stato un po' un tosto dolente perché prima diciamo appena mi sono laureata che avevo deciso di andare a lavorare appunto in questa azienda biomedicale per qualche mese mio papà anche in particolare era molto contento perché aveva voglia di vedermi dopo comunque 5 anni di studio era super contento all'idea di vedermi in una situazione stabile con un lavoro eccetera diciamo che io odio un po' questi canoni che ci sono stati imposti dalla società per cui bisogna avere un lavoro a tempo indeterminato bisogna trovare lavoro il prima possibile e tutte queste cose insomma c'è un lavoro il prima possibile ma a tempo indeterminato insomma io non la penso così e ci ho messo di tempo per capirlo tra l'altro perché diciamo ero comunque anche all'inizio dell'università l'ho sempre pensata così dicendo ah sì adesso finirò i miei 5 anni troverò subito un po' stato indeterminato e sarò a posto invece poi ho capito che che no che non è quello a cui dobbiamo aspirare ma perché ci troviamo in un mondo che è tutto completamente diverso rispetto a quello dei nostri genitori ci troviamo in un'epoca diversa e quindi bisogna affrontarla di conseguenza io proprio per questo ho deciso di buttarmi nella ricerca perché ho pensato ma che necessità c'è di focalizzarmi ho 27 anni che necessità c'è di focalizzarmi adesso nella ricerca di un posto indeterminato oggettivamente ho tutta la vita davanti poi vero che potrebbe succedere qualsiasi cosa domani però non mi rincorre nessuno cioè alla fine la cosa importante è fare anche quello che piace alle persone io sono alla fine proprio per questa ragione qui ho deciso di buttarmi a fare un dottorato perché ho detto è quello che mi piace al di là di tutto al di là dei sacrifici che poi uno deve affrontare perché quando si dice che la ricerca è difficile in Italia la ricerca è difficile in Italia ma perché a livello diciamo di retribuzione a livello di strutture di quello che ti possono offrire di tecnologie che ti offrono per farlo non tutti gli istituti non tutte le università hanno le stesse diciamo le stesse strumentazioni le stesse tecnologie insomma quindi non è banale però quando uno decide di intraprendere questa scelta lo fa per passione perché al di là di tutto ci deve essere un fondo di fondo diciamo una passione che ti spinge a fare queste cose e poi chiaro c'è ovvio che ci debba essere uno che lavori gratis però la cosa importante che ho sempre pensato è anche se mio papà la mia famiglia inizialmente non sono stati d'accordo su questa mia scelta di voler fare il dottorato io sono sempre più contenta di averlo fatto proprio perché alla fine ho seguito una cosa che volevo fare e anche se non mi darà stabilità nel futuro perlomeno nei prossimi anni a me non interessa perché tanto per il momento io ho un lavoro riesco a viverci sono felice così e questo è quello che conta per me ci tengo a fare una piccola premessa perché di solito si pensa che chi studia matematica lo fa per andare a insegnare e che la strada dell'insegnamento sia l'unica strada possibile per chi studia matematica invece non è così perché c'è sia la ricerca sia tanti campi di applicazione sia possibili lavori in aziende in quanto studiare matematica ti porta ad avere una certa forma mentis una capacità di vedere e risolvere i problemi che le aziende ricercano però ecco molti professori tendono a non dare importanza a questi altri campi tendono a pensare come unica strada possibile la ricerca e di conseguenza hanno quest'idea che il sapere della matematica la conoscenza della matematica debba essere riservata o solo esclusivamente una certa elite di persone geniali e quindi se tu non rientri nella loro idea di persona geniale che può studiare matematica ti dicono in modo poco carino che sei stupido che devi cambiare facoltà che non ce la farai quindi ecco questo tipo di insegnanti sicuramente non mi ha incoraggiato allo stesso tempo però almeno in generale matematica gli iscritti sono pochi nella mia facoltà poi eravamo davvero pochi della serie che il primo anno di triennale gli iscritti potevano essere 50-60 però si dimezzavano nel corso degli anni quindi l'ultimo anno siamo sennò una trentina alla triennale e alla magistrale ancora meno quindi tutti si conoscono ci sono cioè possiamo confrontarci e quindi spesso prima di andare ad un esame hai già parlato con altri tuoi colleghi e sei già stato avvisato che quel professore ha quest'idea e quindi parti già pensando ok potrebbe dirmi che sono stupido e che devo cambiare facoltà però ecco ci vai preparato si sa che così cerchi di non di non lasciarti troppo influenzare da questo atteggiamento anche se comunque è pesante è una cosa che non si dovrebbe ovviamente fare e però ecco ripeto fra virgolette è una cosa che si sa e quindi uno ci va con le spalle diciamo ci va insomma con un'armatura in più altrimenti ecco ci sono anche dei professori invece molto bravi che ti incoraggiano quindi a parte questi episodi che che sono riuscita a farmi scivolare addosso abbastanza bene gli altri professori sono molto bravi molto incoraggianti inoltre dalla mia famiglia mi sono sempre sentita incoraggiata dai miei compagni di scuola anche di università e ripeto molti professori dalle scuole medie anche all'università non ho sottolineato che gli atteggiamenti di cui ho parlato avvenivano indistintamente sia verso ragazzi che ragazze era proprio quella l'idea del professore e quindi ecco non facevano discriminazioni sotto quel punto di vista sicuramente però ecco altri professori conoscendo questi professori diciamo cattivi erano anche a volte loro a metterci in guardia o a dire o a incoraggiarci ulteriormente insomma sottolineando quanto fosse sbagliato l'atteggiamento del professore cattivo mi sono sentita supportata diciamo sì e no come avete capito da quello che vi ho già detto ho da subito impostato la mia futura carriera diciamo in un ambito abbastanza di nicchia quindi di conseguenza anche le prospettive lavorative agli occhi dei miei genitori soprattutto erano abbastanza scoraggianti di fatto però mi hanno sempre supportata perché mi vedevano talmente tanto decisa nelle mie passioni talmente carica eccetera eccetera che probabilmente il fatto che io non abbia mai cambiato di un filo il mio obiettivo dalla terza media in avanti li ha fatti credere in me e nelle mie possibilità poi tra loro dicevano anche con me purtroppo ma al che vada vai a insegnare ecco no il problema nasceva proprio qui con immenso rispetto che porto per tutti gli insegnanti all'ascolto per carità per me finire ad insegnare sarebbe stato e sarebbe anche adesso un grosso fallimento professionale non sono portata per l'insegnamento non mi piace il contatto con i ragazzi non mi interessa niente di tutto questo e ho sempre voluto diciamo mettere le mani in pasta fare le cose e non insegnare per ora mi è sempre andata molto bene ma potrebbe succedere di tutto perché sappiamo che nell'ambito lavorativo l'insegnamento purtroppo è molto spesso l'ultima spiaggia di tanti scienziati da un punto di vista di background familiare io sono una persona molto fortunata e ne sono davvero consapevole perché la mia famiglia non si è mai opposta al mio desiderio anzi mi hanno sempre giusto appunto supportato moltissimo e massimo che ho ottenuto quando ho detto ah sì voglio fare ingegneria è stato perché prima avevo deciso di fare astrofisica poi ho cambiato idea per una questione di come dire inclinazione personale l'unica cosa è stato mio padre che a sua volta è ingegnere che mi ha chiesto sei sicura di voler fare ingegneria perché come dire è un po' un mondo di merda certe volte e poi ho detto sì e lui ho fatto ah ok bene quindi dove vuoi andare e questo è stato il massimo di discussione che ho avuto perché vengo da una famiglia in cui la cosa più importante è fare prima quello che ti piace perché poi per accontentarti hai tutta la vita e sono stata cresciuta con questo modo di pensare e quindi sì mi sono sempre sentita molto sostenuta dalla mia famiglia e niente questa cosa mi rende molto felice in realtà perché so che non è non è così e niente sono davvero contenta di questo e anche a rifletterci bene mi sento super fortunata sì fortunatamente sono stata molto supportata nella mia scelta di studiare biotecnologie i miei genitori dopo essersi assicurati che questa fosse davvero la vita che volevo mi hanno supportata in ogni scelta e soprattutto mi hanno aiutata in un percorso universitario che non è stato sempre facile in generale tutta la mia famiglia mi ha sempre spronata aiutata in particolare per mia nonna che è sopravvissuta ad alcuni tumori ero motivo di grande orgoglio perché si rendeva conto che comunque figure come la mia e in generale la mia generazione rappresentavano il futuro della ricerca anche in campo oncologico mi è stato anche fatto presente che fare ricerche in Italia è dura la paga è molto bassa lo sfruttamento è continuo e il contratto a tempo determinato è praticamente un miraggio per fortuna io non ho intenzione di restare in Italia voglio esplorare il mondo e lavorare in più laboratori possibili e magari essere un po' una girovaga della ricerca devo dire che sono sempre stata molto fortunata perché sia a livello di amicizie familiari anche professori sono sempre stata incoraggiata e supportata in quelle che erano le mie scelte accademiche o future lavorative e immagino che sarei stata supportata indipendentemente da quale fosse stata la mia scelta quindi scientifica o non scientifica quindi non ho non ho mai fortunatamente dovuto soffrire un ripensamento dovuto allo mio Dio non sono abbastanza non è un lavoro da donne sarà meglio che io faccia qualcos'altro pensi a qualcos'altro perché questo piano non può funzionare inoltre sono sempre stata molto fortunata anche nell'essere nata diciamo in una famiglia in cui le scienze sono sempre state molto importanti infatti ad esempio mia madre ha sempre lavorato nel campo dell'ingegneria e di conseguenza anche su quel lato non mi è mai stato impedito di seguire una carriera scientifica magari adetta della maggior parte delle persone meno adatta a una donna ma anzi mi è sempre stato detto che potevo essere potevo fare quello che voglio quello che volevo assolutamente sì mi sono sentita sempre molto supportata e sostenuta sia nel campo diciamo dello studio sia poi una volta iniziato a lavorare in particolar modo ovviamente il primo supporto viene dalla famiglia e almeno per me è stato così quando ho scelto di fare farmacia la mia famiglia in particolare mia mamma e mio papà mi hanno sostenuto nella scelta che avevo fatto poi successivamente diciamo il primo grande appoggio l'ho avuto quando ho fatto tirocinio quindi quando mi stavo per la prima volta approcciando al mondo del lavoro anche se in realtà non stavo ancora lavorando e questo sostegno è venuto dai farmacisti della farmacia presso la quale svolgevo il tirocinio in particolar modo dalla mia tutor che manco a farla apposta si chiama come me che non solo mi ha insegnato le basi che io tutt'oggi sfrutto dietro il banco soprattutto nel consiglio con le persone ma soprattutto mi ha spronato vedendo le mie capacità a comportarmi sempre in quel modo quindi con interesse passione dedizione la stessa che ci mettevo nel momento in cui stavo imparando mi ha mi ha detto di mettercela nel mio lavoro perché vedeva in me non solamente delle capacità ma anche una certa predisposizione nel lavoro e nel rapporto soprattutto con i clienti allora in famiglia mi sono sempre sentita supportata anche più del dovuto diciamo che sia mio padre che mia madre fin da quando ero piccola e avevo cominciato a dimostrare più interesse verso le materie scientifiche che per le materie umanistiche mi hanno sempre supportato mi ricordo da piccola insomma che smontavo smontavo qualsiasi cosa mi capitasse a tiro di elettronico a partire dal telecomando le sveglie qualsiasi cosa fino ad arrivare a cercare di aprire il computer al che ho chiesto a mio padre papà posso vedere che cosa c'è dentro a quello scatolotto mi ricordo proprio di aver detto scatolotto e appunto ho visto la prima scada madre in vita mia e mi sono follemente innamorata al che appunto ho cominciato ad interessarmene sempre di più e i miei genitori mi hanno sempre supportata ho ricevuto anche molto molto supporto durante gli anni delle scuole superiori soprattutto da alcuni professori perché appunto facendo una scuola tecnica non c'erano tante ragazze facendo informatiche in una scuola tecnica ce n'erano ancora meno e molti professori mi hanno sempre supportata e quando ho avuto dei problemi di salute durante gli ultimi anni hanno sempre cercato di aiutarmi per non farmi rimanere indietro e è stato molto molto importante questo e il supporto appunto della mia famiglia è continuato anche all'università quindi diciamo che quello non è mai mancato per fortuna allora in famiglia alla fine mi hanno sempre lasciato fare quello che volevo anche a liceo andando bene sia nelle materie umanistiche che in quelle scientifiche mi hanno sempre lasciato carta bianca nessuno mi ha spinto a scegliere un particolare percorso piuttosto che l'altro quindi non ho mai sentito alcun tipo di pressione fino all'università perché poi all'università diciamo che la cosa è un po' cambiata non tanto perché ci fossero delle vere difficoltà ma perché ho cominciato a sentire molto di più la pressione del dover mantenere certi standard e non è una questione della sindrome del più bravo della classe della sindrome dell'impostore perché non è una questione solo mia ma era comunque qualcosa che vedevo essere comune anche alle mie altre colleghe perché se neanche sei onesti se sei femmina e fallisci il tuo fallimento diventa un esempio eclatante diventa quasi la prova in mano a chi dice che non dovresti essere là è la vecchia storia per cui se una donna parcheggia male allora parte il cuore del donna volante pericolo costante mentre se sei uomo non sei costantemente sotto esame è una cosa che ho notato cioè che un ragazzo non sente così tanto la pressione perché nessuno lo guarda divertito se non si ricorda chi ha vinto il gran premio del 2000 mai se magari ha qualche dubbio su come funziona un motore se non sa montare un motore cioè personalmente ho sentito molto la pressione del ok faccio ingegneria quindi d'ora in poi devo dimostrare che ho meritato di essere qua quindi limitiamo le mie altre passioni più tra virgolette umanistiche in favore di solo cose scientifiche molte cose poi che volevo provare non le ho fatte per paura di fallire e sostanzialmente per non fare la figura della scema della stupida magari certe volte che volevo capire alcune cose in alcuni progetti o in altri invece di fare domande stavo zitta e poi me la vedevo da sola a casa perché cioè alla fine chi dice che non ti giudicano non sarei a mente di chi sta parlando perché se sei l'unica donna sei quasi obbligata ad essere il nicola o da dei poveri a capire tutto devi dimostrarti geniale non mediocre se no quasi ti senti in colpa perché se poi ci sono pregiudizi sul tuo genere è colpa tua che non sei stata abbastanza in gamba da stradicarli è una questione molto complicata diciamo che la pressione si sente quando sei in minoranza in un determinato contesto io mi reputo fortunata perché comunque la mia famiglia mi ha sempre supportata però mi rendo conto che non per tutti è così infatti mi è capitato di conoscere una ragazza in particolare che per poter perseguire i propri studi scientifici è effettivamente dovuta scendere a patti con la propria famiglia nel corso nel corso della tua esperienza hai mai subito o percepito sia durante lo studio che durante il lavoro discriminazioni microaggressioni o discorsi pieni di pregiudizi nei confronti del tuo genere o conosci delle colleghe che invece hanno purtroppo avuto delle esperienze di questo tipo che magari a te non sono capitate durante tutto il percorso accademico né io né le mie colleghe abbiamo mai riscontrato grossi problemi o sfavoreggiamenti solo perché ragazze fortunatamente c'è da dire che almeno per quanto ha riguardato il mio corso di laurea i professori erano stronzi erano stronzi in modo democratico l'unica cosa era magari qualche voce di corridoio riguardo a determinati professori che si diceva essere magari un po' misogini però oltre alle voci di corridoio non è mai successo nulla di cui io sia venuta a conoscenza fortunatamente chiaramente ti ritrovi in un ambiente prevalentemente maschile perché durante tutto il mio percorso accademico i corsi erano tenuti da professori e le uniche professoresse che ho avuto erano magari per parti di corso e di tutti i corsi che ho fatto tre corsi e mezzo diciamo erano tenuti in parte ma totalmente da professoresse e di cui io abbia conoscenza c'è solo un corso della laurea magistrale di fisica e di fisica dell'universo astrofisica cosmologia tenuto da una professoressa e un altro corso che però è didattica della fisica quindi non è proprio strettamente fisica penso che ad astronomia le cose vadano un pochino meglio da questo punto di vista però non saprei sì perché fino a qualche anno fa erano divisi i percorsi astronomia e fisica che sono due gestioni diverse e penso sia un pochino più paritaria la situazione ad astronomia poi oltre alle voci di corridoio qualche battuta triste un po' sessista a lezione è stata fatta nei confronti di scienziate uscite un po' infelici però il lato positivo è che se il professore ha fatto una figura barbina almeno l'aula ha reagito in modo molto freddo alla battuta ed è stata una cosa molto bella da vedere sinceramente per cui magari anche tra i coetanei ormai si è raggiunto un livello di sensibilizzazione per cui le battute più becere sessiste vengono riconosciute in quanto tali grazie a Dio e non si ride alla battuta di merda fortunatamente poi però c'è da dire che la maggior parte degli atteggiamenti sessisti sono arrivati da parte di colleghi perché battutine del cazzo sul fatto che ti basti andare all'esame scollata per avere il bel voto non so quante volte me le sono sentite finti complimenti di sconosciuti a cui magari dicevo ah boh sì studio fisica e mi rispondevano non si direbbe voglio dire che cosa vuol dire non lo so vabbè lasciamo stare e insinuazioni sul fatto che alcuni professori gonfiassero i voti degli esami orali per le ragazze perché si facevano abbindolare dalle nostre carinerie dal nostro essere di bell'aspetto di bella presenza ad esempio nel mio caso personale la maggior parte delle problematiche che mi sono portata avanti sono nate all'interno dell'ambiente del liceo delle scuole superiori per cui è stata usata una mia situazione personale diciamo per giustificare attacchi alla mia riuscita a livello scolastico soprattutto nelle aree scientifiche per cui non mi si lasciava mai vivere se prendevo bei voti perché dava fastidio che io potessi essere al pari dei miei compagni maschi ovviamente da parte loro e questo poi me lo sono portato l'ho molto introiettato e me lo sono portato avanti sia come bisogno di riscatto quindi di dimostrare qualcosa a qualcuno nella scelta di percorso che ho fatto sia a livello di insicurezze e forse la problematica più grande che ci portiamo avanti noi ragazze studentesse all'interno dei campi scientifici è proprio quella della poca fiducia in noi stesse almeno io l'ho riscontrato sia in me stessa che in molte altre ragazze che mi mi circondavano in questi anni ho sentito molto spesso dire sono troppo stupida non ci arriverò cioè non sono abbastanza brava molto più spesso in bocca di ragazze che in bocca di ragazzi che ovviamente hanno le loro difficoltà le loro problematiche ma non a livelli così evidenti come molte ragazze insomma che conosco tra cui mi metto anch'io comunque una volta durante un esame è successo un episodio abbastanza sgradevole nel senso che il professore ha la domanda di una studentessa riguardo chiarimenti sul problema da svolgere si è lasciato andare a commenti fuori luogo nel senso che le ha le ha detto che essendo lei molto carina l'aveva notata la teneva d'occhio da un po' e non aveva problemi ad aiutarla o una cosa del genere mi è stato riferito anni fa comunque la questione era questa il che è proprio di uno squallore di un viscidume terrificante lo stesso professore era noto per stalkerare studenti studentesse soprattutto da quello che ho capito su facebook per raccogliere informazioni diciamo è successa una cosa simile anche se meno fastidiosa a me che sono andata a chiedergli se potevo fare dei parziali nonostante avesse seguito il corso l'anno prima riseguendolo e lui in modo abbastanza strano inquietante mi ha detto ah sì sì mi ricordo di lei anche io sono tipo volevo morire sparire però insomma si è fermato tutto lì per fortuna e questi atteggiamenti fanno molto incazzare perché non sai neanche come porti perché non sono riportabili se non come generiche lamentele che insomma per fortuna anche per questioni di didattica è stato spostato tolto dal corso e lo tiene qualcun altro se non mi sbaglio adesso però sì sono queste cose che ti fanno proprio incazzare perché è tutto molto subdolo e al limite che non sai neanche bene come muoverti sfortunatamente sì la prima che viene in mente è accaduta un paio di anni fa quando dopo una presentazione un post hoc il mio gruppo si è avvicinato per parlarmi e mi ha detto congratulazioni per i tuoi risultati sono veramente incredibili e sorpassano di molto le nostre aspettative e la cosa è ancora più incredibile considerando il fatto che tu sei una donna vi lascio solo immaginare la mia reazione tuttavia a me è andata ancora bene ad altri miei colleghi è stato negato il posto di lavoro in particolare questo è successo in America dove una collega si è sentita dire che essendo in età da figli non era adatta a un campo competitivo come quello della ricerca scientifica per rispondere a questa domanda devo fare una piccola premessa il mio avvicinamento ai temi riguardanti la varietà di genere inizia in concomitanza con il mio percorso di studio universitario per la precisione poco prima durante la preparazione della prima prova della maturità avendola fatta nel 2016 anno in cui ricorrevano i 70 anni del voto alle donne una traccia su questo argomento era quasi scontata l'essitino degli otti di Edith Stein di Anna Arendt di Simone de Beauvoir mi affascinarono così tanto le loro storie la loro attitudine a non subire ingiustizie sociali a non stare un passo indietro a far valere i loro diritti in quanto donne che quel tema è stata una sorta di turning point nella mia vita tutto questo per dire che fin da subito nel mio percorso universitario ho avuto le tra piccolette antenne dritte per le questioni di genere si contano sulle dita di una mano le volte in cui mi sono risparmiata dal dire che cosa sessista nei discorsi con i miei colleghi e a spiegare del perché lo fosse i discorsi di questo tipo sono purtroppo sempre dovuti alla società maschilista in cui ci ritroviamo perché il più delle volte in cui faccio presente questa disparità di genere i miei coetanei mi danno per lo più ragione dicendo sai che non ci avevo mai pensato? dal punto di vista del fatto se le donne possono meno intraprendere una carriera scientifica non c'è stata una situazione in particolare che mi abbia fatto arrabbiare particolarmente né un professore né un mio collega hanno mai fatto cenno al riguardo non hanno mai fatto battute misogine in contesti istituzionali devo essere sincera non ho mai assistito a dei comportamenti o a dei discorsi che potessero portare a pensare che le donne non sono portate per una carriera scientifica una cosa però a cui mi sento di accennare sono quei professori tutti rigorosamente maschi e prossimi alla pensione che ti chiamano signorina assumendo anche un tono presuntoso a cui vorresti rispondere anche di zio maschio X lo chiamano signorino quello che cambia infatti non è solo l'utilizzo dell'appellativo ma il fatto è che il più delle volte questi prof parlano con i ragazzi come se fossero dei loro pari mentre noi ragazze siamo signorine carine e coccolose che sanno stare un passo indietro e non alzano mai la voce fortunatamente questa situazione l'ho scontrata solo rare volte e anzi l'elevi più giovani dei miei prof sia uomini che donne cercano sempre di incoraggiarci ad andare avanti a rompere il cosiddetto soffitto di cristallo mi rendo conto di trovarmi in una sorta di isola felice perché ad esempio una mia ex conquilina studentessa di ingegneria informatica della mia stessa università si trova spesso a dover combattere contro pregiudizi riguardanti la sua carriera scientifica mi ricordo ancora una volta in cui non funzionava internet a casa e lei si mise a studiare il motivo del malfunzionamento non riuscendo a trovare una soluzione chiamò il tecnico ad un certo punto vedo che si inizia a scaldare dicendo guardi che capisco cosa intende sono una programmatrice non mi deve parlare come se fossi una bambina di due anni una volta finita la chiamata le si sfoga e dice non è possibile che ogni volta che si parla di sistemi informatici si pensa che sia monopolio degli uomini pensare che anche una donna possa comprendere questo mondo sembra inaccettabile e ovviamente non è stato l'unico episodio di questo tipo questa ragazza infatti mi raccontava spesso di come sia difficile farsi prendere sul serio nonostante le sue idee fossero valide tanto quanto quelle dei suoi colleghi maschi mi ripeteva sempre perché devo fare sempre il doppio del lavoro non è facile combattere contro una società maschilista non è facile farsi spazio verso ciò che si vuole veramente semplicemente perché spesso non si dà neanche la possibilità di conoscerlo se fin da piccola ci si sente ripetersi che le donne devono saper cucinare perché altrimenti un marito come lo sfami se fin da piccola sei abituata a mettere da parte le ambizioni perché ma dopo ce l'avrai il tempo per un bambino se fin da piccola ti fanno giocare con le bambole mentre tu vorresti solo una macchinina come puoi capire veramente quello che fa per te se non ti propongono tutte le infinite sfaccettature che la vita ha da offrirti come puoi capire chi sei realmente come puoi comprendere ciò che ti piace di più non mi stancherò mai mai di ripetere che l'unico modo per uscire fuori da questa situazione è nell'educazione dare ai bambini e alle bambine la possibilità di venire in contatto con i più sfariati punti di vista e non solo quelli imposti dalla società allora nella mia facoltà discorsi sessisti se le sentono perché comunque essendo la maggior parte ragazzi le piccole battute scappano sempre per esempio ho una mia amica che ho anche le studi in ingegneria meccanica in un altro ateneo differente dal mio è capitato che lei rispondesse una volta in modo corretto una domanda il professore disse ah giusto nel senso non le fece un complimento semplicemente rispose con maniera stupita che lei in quanto ragazza fosse riuscita a rispondere in maniera corretta al quesito invece a me è capitato una volta per esempio che dovessi sostenere un esame a fine luglio in una piccola stanza caldissima e quindi inoltre la mia sede era distaccata ed era in aperta campagna e faceva molto caldo e quindi niente è capitato che mi presentassi con una maglietta leggera un po' scollata pretto che io in generale mi vesto un po' scollata comunque e niente sostendi l'esame col professore tranquillissimo ad un certo punto mi ero inceppata però lui mi fece fare un bel respiro e mi aiutò a riprendere la dimostrazione e ragazzo dopo di me entrò e sostenne anche lui l'esame dopo tipo un paio di giorni quando siamo andati per confermare il vuoto mi fece la battuta della serie che io ero riuscita ad andare meglio cioè diciamo a farmi aiutare dal professore perché farmi favorire diciamo non favorire semplicemente mi aveva dato quella mano ad andare avanti alla dimostrazione perché avevo la maglietta scollata e quella diciamo che è stata l'episodio per me più creatata perché fortunatamente non ho mai avuto grandi problemi poi vabbè discorsi sessissi a cui ho assistito il classico se fossi donna la darei dalla mattina alla sera quelli in facoltà se ne sentono almeno quando magari il primo anno quando ancora sono ragazzini da un punto di vista istituzionale quindi da parte dell'università o dei professori fortunatamente non mi è mai successo di assistere a discriminazione a discorsi strani nei miei confronti o nei confronti di altre mie compagne l'unico caso un po' borderline è stato durante un esame orale che giustamente sono stata bocciata perché non conoscevo la risposta ad una domanda in cui il professore voleva esprimere un concetto che ho capito quello che voleva esprimere però forse non ha usato esattamente le parole migliori in sostanza parafrasando il discorso del professore era che certe cose bisogna saperle per forza perché nel momento in cui tu vai a lavorare e tutti quelli attorno a te si rendono conto che non sai certe cose ti fanno un culo così non avrai più rispetto dai tuoi collaboratori e in particolare io che sono donna devo sapere le cose meglio di tutti gli altri perché per via dei pregiudizi per via di tutto quello che c'è attorno appunto verrò tartassata ancora di più e nonostante io abbia capito il discorso del professore che sicuramente non voleva essere discriminatorio anzi voleva andare ad evidenziare dinamiche pregiudizi che sicuramente affronterò andando avanti nel mio percorso lavorativo però diciamo che quel discorso mi è rimasto particolarmente impresso anche e soprattutto per il contesto in cui era stato detto e sicuramente il professore che era diciamo molto veemente nel modo in cui lo ha espresso quindi sotto il punto di vista di università di professori sono stata molto fortunata non so se perché ci sia una particolare attenzione a certa tematica appunto perché è stata solo fortuna mentre per quanto riguarda colleghi quindi altri studenti la situazione cambia un po' mai raggiungendo comunque cose estremamente gravi però ecco per contestualizzare al primo anno di ingegneria meccanica io ero l'unica ragazza al secondo anno eravamo in due ragazze al terzo anno eravamo già un po' di più ma non raggiungevamo le due cifre su aule che comunque comprendevano circa 150 studenti e direi che già questi numeri dicono molto dell'ambiente in cui ho studiato comunque nonostante io abbia avuto molte esperienze positive con i miei compagni addirittura abbiamo spesso parlato di femminismo di disparità sul luogo del lavoro di disparità in università sono sempre stati diciamo scambi molto proficui comunque l'ignorante c'è sempre la scena che mi è rimasta più impressa è sicuramente una discussione con un mio collega che stava cercando di spiegare il perché secondo lui qualsiasi datore di lavoro fosse legittimato a non assumere donne perché non conviene assumere donne rispetto ad assumere un uomo per questioni di maternità quindi è giusto che i datori di lavoro assumano solamente uomini io ero rimasta un attimo basita di fronte a questo exploit però ho apprezzato molto che i miei colleghi i miei colleghi i miei compagni i miei amici diciamo si fossero messi in mezzo avessero iniziato a dire no ma che cosa stai dicendo insomma cercavano appunto di ragionare con quest'altra persona e la cosa che mi ha fatto ridere è che poi la persona che appunto giustificava l'assumere solamente uomini abbia detto qualcosa del tipo ma voi eravate così anche prima di conoscere lei o è stata lei a indottrinarvi che tutti dopo aver riso per il nervoso lo abbiamo osservato un attimo perplessi perché cioè sono questioni di diritti umani di uguaglianza non c'è bisogno che io indottrini nessuno sugli argomenti comunque appunto diciamo che io mi ritengo molto fortunata per quanto riguarda discriminazioni discorsi sessisti nella mia carriera universitaria per quanto riguarda il discorso sulle molesti i pregiudizi le microaggressioni io ancora una volta per fortuna non ho avuto esperienze particolarmente drammatiche né particolarmente gravi sono anche in un campo diciamo in un ambiente che è abbastanza protetto sul lavoro quindi non non ho avuto esperienze dirette di cose particolarmente gravi appunto però ci sono comunque stati degli episodi un po' spiacevoli in tutta in tutta la vita che sono semplicemente legati al fatto che sono una ragazza il primo di cui ho memoria è successo al liceo una cosa che succedeva è che ogni anno partecipavamo alle olimpiadi della fisica o della matematica e un anno dopo aver partecipato ho scoperto di essere passata alla fase successiva io ero molto contenta e uno dei miei professori mi ha presa da parte mi ha detto una frase che secondo lui era un complimento mi ha detto certo che sei intelligente per essere una ragazza e io sul momento ancora un po' presa dall'epoca ero ovviamente ancora nella fase maschilismo interiorizzato l'ho preso come un complimento e come un motivo di fiarezza ma è ovviamente sbagliato perché vuol dire che io come essere umano ero intelligente ma tutte le altre donne dovevano essere considerate stupide di base una donna è stupida deve dimostrare di essere intelligente mentre invece un uomo di base non gli si associa diciamo un tratto di intelligenza o di stupidità e ha semplicemente bisogno dopo di dimostrare che non è adeguato al suo campo di studio o di lavoro questa è stata la prima cosa che mi ha fatto capire che c'era qualcosa che non andava nella società perché anche se io personalmente ero trattata da donna intelligente questo non era non era il caso per tutte le altre un altro caso che mi è capitato invece durante il lavoro anche lì non è niente di grave però è fastidioso mi capita ad esempio di organizzare delle riunioni e c'è stata una volta uno dei capi delle altre unità che sono venuti a lavorare con noi che quando gli ho detto che avevo prenotato una sala e avevo organizzato tutto se ne è uscito con ah ma è proprio brava questa piccola ed è una frase che non diremmo mai a un ragazzo non diremmo mai a un uomo a un ingegnere ah sei proprio bravo piccolo mio e anche lì probabilmente nella sua testa era un complimento ma non lo è in realtà ed è una cosa che non dovrebbe uscire sul campo di lavoro poi ovviamente ci sono state le battutine sul ah quindi hai avuto un aumento cosa hai fatto per convincere il capo questo genere di cose che da una parte possono essere imputate diciamo alla goliardia al voler scherzare però dall'altra vengono fatte molto raramente ai miei colleghi uomini sono sempre rivolte a me o alle mie colleghe alle mie colleghe donne e poi ci sono stati casi più invece di proprio di pregiudizi di discriminazione verso miei colleghe una ad esempio prima che venisse a lavorare da noi era in un'altra unità e ad un certo punto lei era passata al part time perché doveva occuparsi dei bambini aveva appena avuto il secondo bambino e quindi era passata al part time a un certo punto ha deciso con suo marito che entrambi potevano fare il part time più flessibile quindi era tornata al lavoro con più più tempo di lavoro quindi era passata forse dal 50% all'80-90% e il suo capo che di base avrebbe dovuto essere contento di avere di nuovo un ingegnere disponibile le ha fatto un commento del tipo ma se tu torni a lavorare chi si occupa dei bambini tuo marito non può mica stare a casa e lei l'ha guardato e gli ha detto certo che sì anche lui può stare a casa e infatti è quello che farà ha preso anche lui un part time flessibile e si occuperà dei bambini tanto quanto me però il commento è stato un po' come dire un po' fuori luogo ecco e un'altra collega invece cosa che secondo me è stata ancora più grave però è una dinamica familiare quindi io non mi posso intromettere un giorno era in ufficio perché è una mia collega che ha molte responsabilità nella nostra unità ed era in ufficio perché doveva occuparsi di una riunione importante lei la animava questa riunione e ad un certo punto ha dovuto correre a casa se ne è andata praticamente lasciandoci a metà della riunione perché suo marito che doveva rimanere a casa con i bambini perché uno di due aveva la febbre tipo a 38 39 aveva deciso che lui doveva andare in ufficio perché il suo lavoro era più importante di quello di sua moglie quindi ovviamente non potendo lasciare due bambini piccoli a casa da soli la mia collega ha preso e tornata a casa ovviamente tutta imbarazzata e non ha potuto fare nient'altro però questo è comunque forse non è proprio una discriminazione sul lavoro ma il suo marito essendo anche lui ingegnere essendo nel nostro stesso campo anche se non lavora con noi e diciamo fa parte di quella di quell'espressione di mentalità chi dice che le donne devono stare a casa e che se c'è da scegliere tra marito e moglie è per forza la moglie che deve stare a casa a occuparsi dei bambini ed è una cosa che è sbagliatissima da una parte io sono sono stata fortunata perché sono arrivata nel gruppo dove sono prima quasi cioè il gruppo è nato intorno a un gruppo molto piccolo di quattro persone di cui una di fatto mai in sede per cui eravamo in tre il mio supervisor io e un altro dottorando che è un mio carissimo amico per cui poi quando si è formato il gruppo è nato intorno a questo a questo nucleo iniziale e la mia presenza era una cosa un po' data 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 di fatto cioè io già c'ero e nessuno si è posto domande sicuramente uno poi deve conquistarsi la la stima delle persone ma questo questo ho visto a fare la stessa pratica sia io che che l'altro ragazzo che ha iniziato il mio dottorato per cui cioè non mi vengono in mente tanti momenti uno sì c'è stato è stato abbastanza devastante già ci ho messo veramente dei giorni per riprendermi è stata una cena del gruppo perché festeggiavamo delle cose e era appena scoppiato tutto il caso il famoso caso di stromia dei ricercatori che aveva fatto la presentazione al CERN che poi è spocciato in un sacco di deliri e eravamo a tavola io e i miei colleghi che sono tutti uomini e mogli e figli e figlie anche e è stato fuori il discorso e e lì sono usciti un sacco di luoghi comuni per cui un sacco di posizioni più o meno condivisibili però la cosa che per me è stata devastante è che mi sono accorta che il problema delle donne nella scienza non è il problema di me che lavoro con loro è una cosa astratta cioè io non faccio parte di quella categoria io sono ci sono sono lì e poi lavoro con loro ho la stima di molti di loro io li stimo lavoriamo bellissimo insieme ognuno ha le sue competenze i suoi punti di forza le sue capacità e poi c'è il problema delle donne nella scienza che è una cosa completamente astratta e già questa cosa qui mi dà fastidio perché non è che uno nega il problema perché è impossibile non è politicamente corretto negare il problema e quindi dici che c'è ma forse è meno di quello che sembra e io li guardavo dicendo siamo in un tavolo in otto dieci non mi ricordo quanti eravamo e io sono l'unica donna che lavora con voi ma questa cosa non l'ha notata nessuno la seconda cosa è che nessuno ha pensato che potessi avere qualcosa da dire io allora sul caso specifico mi ero mi ero un po' messa cioè mi ero messa come regola di non parlarne perché è un quando un argomento è così caldo è così sentito secondo me non si riesce a ragionare lucidamente e di fare tifoseria di partito non avevo mai voglia però mi sono sentita proprio invisibile cioè io in quanto donna cioè io magari potevo ero lì e avrei potuto interrompere e dire qualsiasi cosa ma non contavo in quanto donna contavo all'imito in quanto me e se e questa cosa è stata pacificamente accettata da tutte le persone presenti tranne dalla moglie del mio supervisor che era sconvolta quanto me da certe esternazioni e e questa cosa di essere invisibile è stata veramente veramente devastante perché perché io ci sono sono lì è una cosa con cui probabilmente anche io poi ho dei problemi personali però vedere e poi vedere questo questo scissione totale tra me che sono lì davanti a te che sono la persona con cui lavori tutti i giorni a cui vieni a chiedere le cose che ti viene a chiedere le cose con cui collabori da tempo ormai perché il gruppo è già stato da un po' a quel punto non non ci sono non faccio parte della categoria donne non ho capito bene questa cosa un'altra cosa che che ho notato è che la la questione cambia molto in base all'età delle persone con cui uno lavora io sto in due in due diverse collaborazioni in una l'età l'età media è molto molto bassa siamo tutti abbastanza giovani e ci sono anche persone più grandi ovviamente però la media è molto bassa e lì è normale che una persona che ha la mia età è costo 30 anni o poco più grande o anche poco più piccola abbia una responsabilità e nel momento in cui si parla della cosa di cui uno è incaricato è la persona più autorevole su quella cosa perché la sta studiando più di tutti poi tutti gli altri intervengono con domande portando altri elementi si discute però la situazione è molto paritaria e nessuno guarda né quanti anni hai né se sei un uomo o una donna se quella cosa è una cosa su cui tu sei la persona che ne sai di più sei la persona che ne sai di più in una collaborazione dove l'età media è più alta e soprattutto strutturata in modo molto più verticistico la cosa è molto diversa in quel caso c'è un capo che decide e che ha la responsabilità e si prende l'onere e gli onori di tutto il lavoro di tutti e poi distribuisce il lavoro tra i sottoposti e in questo caso di fatto ci sono anche delle donne tra i vertici ma hanno un ruolo molto subalterno rispetto agli uomini in questo senso il fatto che per esempio il mio responsabile avesse fatto presentare me e un'altra ricercatrice un'altra professoressa invece di presentare lui è stato visto in modo abbastanza sovversivo semplicemente perché su alcune cose la competenza mia era più precisa perché è una cosa su cui io lavoravo e poi riportavo a lui e lo stesso per l'altra professoressa questa cosa è stata vista in modo molto molto sovversivo e c'è una tendenza a mettere da parte il ruolo delle donne proprio perché c'è questa struttura molto vergicistica di professori abbastanza di una certa età e sono quasi abbastanza anziani per rispondere a questa domanda ci vorrebbero delle ore secondo me allora quello che mi sento di dire in generale è che ovviamente il pregiudizio nei confronti delle donne nel mio campo è molto presente è una cosa con cui mi scontro quotidianamente anche all'università era così il pregiudizio ovviamente principale è quello che fa pensare alle donne come a delle persone assolutamente non capaci che non si intendono di automobili che non ci capiscono niente di automobili e che non sanno guidare e una cosa che ho sempre notato è il fatto che per venire rispettate professionalmente parlando bisogna sempre dimostrare di sapere le cose saperle fare ed essere in grado di farle che in generale non è assolutamente una cosa negativa almeno per quanto riguarda i posti di lavoro però molto spesso determinate abilità vengono date per scontate se tu sei un uomo cosa che invece non viene fatta se tu sei una ragazza altra cosa molto molto presente ovviamente è il sessismo le battute sessiste in ufficio purtroppo ci sono e vengono sempre fatte senza pensare che ci sono anche delle colleghe presenti in quel momento molto spesso ovviamente sono seguite subito da delle scuse quindi scusa fede ovviamente non è indirizzato a te oppure scusa fede non ascoltare in questo momento eccetera eccetera però fa capire come sia una mentalità purtroppo ancora molto radicata e presente in determinati uomini e quanto non si assolutamente rendano conto di del valore delle parole in un certo senso cioè non si rendono conto che sono delle moleste degli insulti nei confronti di colleghe che hanno lì presenti con loro io per fortuna non sono stata vittima di molestie però all'università una mia collega era stata diciamo protagonista di un meme a sfondo sessuale solo perché lei era brasiliana è stato creato appunto questo meme molto offensivo su di lei che aveva girato su dei gruppi di studio telegram che poi ovviamente era sparito era stato lei ovviamente aveva scoperto chi era stato il creatore c'erano state delle scuse eccetera eccetera però chiaramente era rimasta molto ferita da questo avvenimento e anche in questo caso diciamo avevo notato la leggerezza con cui i colleghi i compagni di studio avevano creato questo questo meme pensando di fare una cosa solo divertente ma non pensando che poteva essere ovviamente interpretata come un insulto quale questo era logicamente e d'altra parte però mi sento di dire che ho avuto anche e ho tuttora dei colleghi che invece spronano molto noi colleghe donne e sono contenti di avere una quota femminile all'interno dell'ufficio perché reputano che avere un po' di diversità sia assolutamente un pro a livello proprio professionale e lavorativo all'interno dell'ufficio diciamo che il mondo accademico è un mondo difficile è un mondo dove le ambizioni la fanno da padrona se non sei ambizioso le persone ti distruggono ed è difficile già normalmente provare a diventare una persona di successo nell'ambito accademico va da sé quindi che avere magari una gravidanza possa in qualche modo distruggere la tua carriera accademica quindi se c'è una cosa che ho sentito subito è la paura della gravidanza se sei incinta non puoi entrare in laboratorio non puoi fare moltissime cose già della cosa più banale lavorare con l'anestesia o lavorare con diversi strumenti questo ti blocca purtroppo per un annetto e in un anno possono succedere tantissime cose ovviamente avere un contratto precario è difficile se sei donna lo è ancora di più perché ovviamente non puoi assolutamente permetterti di rimanere incinta rimanere incinta significa rinunciare alla carriera per me è forse anche una delle ragioni per cui io non voglio dei figli per ora ed è una cosa che all'inizio mi pesava quando ero più piccola quando stavo studiando soprattutto alla magistrale perché durante la magistrale noi stiamo in laboratorio per due anni quindi oltre ai corsi io stavo durante tipo a pranzo oppure fino alle 8-10 di sera in laboratorio questo significa non avere quasi una vita e quando inizi ad avere 24-25 anni inizi a chiederti ma è questo che voglio fare veramente e se dovessi rimanere incinta cosa succederebbe fortunatamente non sono mai stata vittima in sede di discriminazioni a parte qualche cosina come il mansplaining che succede a volte troppo spesso e io sono una persona molto intollerante e quindi lo faccio notare tra non lo so per te una delle cose più simpatiche che è tipo delle persone di sesso maschile che vogliono portare le cose pesanti per me perché io non ci riesco tra cose pesanti sono cose di 2 kg che mi un po' mi sviliscono un pochino dal mio essere donna e quindi questa è una cosa che un pochino mi ha sempre pesata all'interno dell'accademia all'interno dell'ambiente lavorativo di tipo scientifico un'altra cosa che è stata subito che hanno subito un po' tutti nei laboratori è il fatto che le donne sono sempre alla base della scala quindi sono le precarie in alto come capi ancora non ho mai avuto una donna e questa cosa è un po' allora questa cosa è un po' cambiata dove lavoro attualmente dove ci sono più donne che uomini siamo al 70% di donne quindi questa cosa è molto diversa devo dire che è quasi un po' più difficile lavorare tra donne però lo trovo lo trovo quasi più stimolante non si crea quella barriera gerarchica che molte volte si crea col professorone vecchio e questa cosa diciamo che mi fa piacere attualmente per quanto riguarda le discriminazioni tra colleghe che hanno subito le mie colleghe purtroppo ce ne sono state tante tra cui la differenza salariale quando lavoravo nel mio vecchio laboratorio le mie colleghe hanno poi scoperto che quando è arrivato un uomo l'uomo prendeva molto di più di loro perché citando il mio ex capo l'uomo deve supportare la famiglia ovviamente avendo un laboratorio dove erano presenti diverse donne precarie sentirsi dire questa cosa donne magari anche con figli sentirsi dire questa cosa è stato un po' un pugno in faccia anche perché significa che l'uomo ha più valore solo perché secondo la società deve supportare la famiglia questa cosa è una cosa che mi ha dato molto fastidio mi ha dato molto da pensare ti fa anche capire che è sempre più difficile per una donna ricoprire posizioni più in alto quindi da ricercatore oppure da professore ordinario o da professore associato ovviamente tra le altre cose che ci sono nel campo delle scienze ovviamente sono sempre legate come ho detto prima alla famosa gravidanza perché molte persone non sono state rinnovate non è stata rinnovata per esempio la borsa di studio a causa della loro gravidanza e cose del genere purtroppo come dico sempre se si vuole lavorare nelle scienze si deve scegliere tra famiglia e carriera ad un certo punto è difficile diventare a tempo indeterminato perché non esiste questa cosa e purtroppo la donna avrà sempre questa marcia in meno a meno che finché non si sceglierà di far scegliere anche per esempio la paternità piuttosto che il congedo di maternità quindi queste sono le mie esperienze allora la quarta domanda è un po' più complicata e quasi tocca il tema delle discriminazioni nel nostro settore allora parlerò per esperienze personali perché in realtà di altri non conosco non conosco molto non ho altri esempi in mente insomma che mi vengono in mente in questo momento dunque vi farò un esempio perché così è più facile da capire allora io durante la mia tesi magistrale ho diciamo dovuto applicare proprio c'erano un paio di progetti e io ho dovuto applicare insomma per queste tesi e competere con altre persone alla fine siamo stati presi io un'altra ragazza e un ragazzo e quando ci è stato chiesto a quale dei progetti volevamo applicare cioè insomma saremmo stati interessati a fare premessa che non ho detto perché altrimenti non si capisce c'erano due progetti diciamo più nell'ambito della biologia per intenderci e uno invece un po' più nell'ambito della meccanica sempre si parla di ingegnere biomedica però facciamo questa distinzione e niente io praticamente quando ho applicato ho espressamente detto che mi sarebbe piaciuto moltissimo poter lavorare nel progetto più legato alla meccanica ma perché era quello che avevo studiato io in magistrale ho fatto biomeccanica e biomateriali quindi mi sembrava proprio che adesso fa giuolo quel progetto lì a posteriori poi io sono stata selezionata in realtà per uno degli altri due alla fine è stato magico perché io nonostante tutto mi sono innamorata di quello che ho fatto però premessa cioè tornando indietro facendo un passo indietro cosa è successo? un giorno mi sono trovata appunto con il mio supervisor a parlare e un altro dei ricercatori che era lì gli ha chiesto proprio come avesse assegnato i vari progetti a noi studenti insomma e lui senza tra l'altro neanche fare un minimo segno di ripensamento a quello che stava dicendo proprio con una freddezza incredibile ha detto eh ma perché insomma avevamo il progetto quello lì più di meccanica insomma un po' più da smanettone l'ho dato al maschietto e gli altri due progetti invece erano più insomma nell'ambito delle cellule dei tessuti li ho lasciati alle ragazze io mi sono gelata cioè mi si è gelato il sangue nelle vene e ho pensato in quel momento me lo sarei mangiata cioè tuttora mi viene una rabbia dentro che non ci credo comunque non so come ho fatto e in un certo senso mi pento anche un po' di non aver detto niente mi sono trattenuta perché ho pensato che quell'uomo avrebbe dovuto eh insomma non fermarmi la tesi però più o meno e quindi ho detto forse non è il caso di inimicarcelo adesso però ho pensato che schifo di mondo ma soprattutto la cosa che mi ha più scioccato veramente mi ha turbato eh è stata che non è che stiamo parlando di un professore di qualcuno insomma anziano anziano sottolineiamo che magari eh ha un retaggio culturale eh degli anni 40 e mi fa questi discorsi del cavolo parliamo di una persona che avrà sui 35 anni quindi insomma diciamo possiamo definirla quasi della nostra generazione quindi ditemi che che discorso è che discorso è io sono rimasta eh basita basita perché non mi aspettavo veramente un discorso del un discorso così brutale ehm proprio perché evidentemente cioè ha dimostrato come la selezione originale fosse inutile completamente inutile perché non ha ascoltato evidentemente uno i nostri desideri due le nostre attitudini quello che ci piace fare non ha ascoltato niente di tutto ciò e non ha letto evidentemente neanche il mio curriculum perché io tra i tre ero l'unica che aveva un background ehm di biomeccanica e biomateriale quindi ehm che dire io non ho avuto cioè in realtà si ho avuto ehm un'altra esperienza durante un orale con un professore appunto insomma che mi ha fatto il verso durante un orale lasciamo perdere veramente anche qua assegniamo un velo pietoso ehm insomma si è un mondo ehm che ancora eh dove ancora si sente questa distinzione si sente tanto le donne eh devono lottare devono lottare tanto ma perlomeno per quello che posso dire nel mio settore ci stiamo aprendo delle strade nel senso che il numero di donne che ogni anno si iscrivono in ingegneria biomedica è sempre più alto e questo mh veramente mh mi ingorrigliosisce come si dice non lo so comunque mi inorgoglisce Sira tantissimo veramente mi rende così orgogliosa di questo perché ne abbiamo bisogno ne abbiamo bisogno tantissimo e comunque appunto di discriminazioni ce ne sono ancora ma io sono convinta che col passaggio delle delle generazioni appunto sperando che ci siano veramente pochi esseri simili a quello che ho incontrato io eh si possa veramente superare questo questo scoglio enorme perché è enorme come ho già detto nella precedente risposta nella mia facoltà c'erano pochi iscritti e quindi ci conoscevamo tutti quanti spesso parlavamo fra di noi dei vari professori dei vari esami quindi ecco sono venuta a conoscenza di cose eh riguardanti alcuni professori anche se non sono entrata direttamente in contatto con alcuni professori c'era ad esempio c'è tuttora un professore che è sempre stato presentato come viscido nei confronti delle ragazze io non ho mai avuto contatti con lui perché non ho seguito i suoi corsi eh però praticamente tutti mi hanno raccontato la stessa cosa e ricordo solo un esempio allora eh devi sapere che durante l'esame a matematica di solito dobbiamo scrivere o su un foglio o su una lavagna dipende dal professore eh da quanto riesce a vedere eccetera e ecco ad esempio lui voleva che scrivessimo cioè che lo studente scrivesse sulla lavagna e eh però spesso lui metteva una scrivania fra la persona e la lavagna eh in modo che dovesse sporgersi per scrivere e quindi appunto cioè non è che ti metteva appunto in una situazione in cui dovevi mandare il sedere un po' in fuori ovviamente non in modo esagerato però questo mi è stato raccontato eh poi c'era il caso di un professore che sembrava che mettesse voti più alti alle ragazze rispetto ai ragazzi ehm una professoressa invece più clemente nei confronti dei ragazzi rispetto alle ragazze e però ecco di questi ultimi due casi non ho diciamo prove certe riguardo la veridicità di questi fatti ma eh era comunque la sensazione comune eh che avevamo ottenuta come somma di vari episodi tutti simili fra di loro c'era c'è stato poi un altro professore di cui invece ho seguito le lezioni che aveva un atteggiamento che mi metteva a disagio in generale lui eh tendeva a fissare le persone senza sbattere le palpebre ma questo tutte cioè proprio è una di quelle persone che non sbatte tanto spesso le palpebre e questo è già un po' inquietante di suo a lezione chiedeva i nomi di tutti quanti gli studenti e questo anche lo fanno diversi professori diciamo può essere nella norma appunto siamo pochi però ecco ricordo di averlo incontrato una volta in segreteria lui era passato a fare gli auguri di Pasqua che lavorava in segreteria e quando mi ha visto mi ha detto ah io questa signorina la conosco ha provato a ricordarsi il mio nome e appunto continuava a fissarmi negli occhi mi ha fatto gli auguri di Pasqua stringendomi la mano a lungo e quel contatto mi ha dato fastidio c'erano molti professori maschi ovviamente da noi e nessuno mai si sarebbe avvicinato così e se lo avesse fatto comunque non avrei avuto quella sensazione di disagio e di superamento di un limite diciamo ti ripeto una sensazione di disagio una cosa che secondo me non andava fatta e sempre questo professore una volta presentato un convegno fuori dall'università in cui aveva invitato tutto il corso il suo corso e a mano a mano che ci vedeva ci salutava però ecco tutti a distanza o qualcuno dando una pacca sulla spalla e a me si è avvicinato mettendo una mano sulla spalla e dicendomi benvenuta ecco mi rendo conto che potrebbero essere stati tutti i gesti malinterpretati da me fatti senza malizia magari ecco lui comunque ripeto indipendentemente da maschio o femmina era un professore che si avvicinava anche con i maschi molto scherzoso però ecco mi ha sempre messo a disagio perché secondo me non c'era bisogno di quella vicinanza seppur minima però ecco sono situazioni limite in cui puoi dire mi dà fastidio però se lo dici sembra che appunto sia stata tua male interpretare delle cose accusare una persona ingiustamente non so come non so se mi sono ben spiegata e di queste situazioni di questi professori tutti sanno almeno fra gli studenti perché ecco anche confrontandoci fra di noi si capisce che tutti sanno che tutti o tanti ecco hanno avuto esperienze o sensazioni simili però ecco nessuno ne ha mai parlato almeno da quanto io so con i presidi o con il rettore ecco sono cose che si sanno e si cerca di proteggersi in qualche modo però ecco si sanno e pace basta così anche perché ripeto sono situazioni limite in cui ti potrebbe venire risposto che sei stato tu ad aver male interpretato qualche qualcosa che non era loro intenzione e comunque ecco nonostante si sappia non ho mai sentito nessuno difenderli cioè parlandone anche fra di noi anche gli studenti maschi hanno sempre disapprovato queste cose c'è sempre stata molta solidarietà da parte anche dei ragazzi nei nostri confronti ecco ripeto non c'è stata un'azione vera però parlando eccetera per fortuna mi sono sempre sentita appoggiata anche dagli altri ragazzi in queste in questo mio mi sono stati vicini in questa mia sensazione magari di malessere fra virgolette non hanno scusato mai i professori invece cambia questo diciamo erano gli argomenti un po' più brutti allora parliamo invece di un altro professore che invece dava per certo quasi che gli uomini maschi studiassero matematica per poter andare a fare ricerca e invece le donne fanno matematica per insegnare e questo pregiudizio è basato sull'idea che le donne hanno meno aspirazioni rispetto agli uomini però ecco lì ci credeva proprio e una professoressa infatti che faceva molta ricerca e girava il mondo per convegni perché tutti i professori di matematica comunque fanno anche ricerca o la sta grande maggioranza insomma ci raccontava che questa professoressa che spesso lei non veniva ascoltata in quanto donna e quando esponeva le sue ricerche veniva sottovalutata proprio perché donna e le veniva detto proprio in faccia che appunto vabbè ma tu sei una donna tipo cosa ne vuoi capire e questo perché anche l'ambiente della ricerca è a predominanza maschile e anche quello lavorativo nelle aziende per quella che è stata finora la mia esperienza e a volte si fa fatica ad integrarsi a farsi spazio a a far capire che la propria parola vale quanto quella degli altri ho iniziato ad affacciarmi al mondo delle aziende da poco al mondo del lavoro da poco quindi personalmente non ho niente da dire per ora se non appunto che incontro ambienti a predominanza maschile ma appunto ambienti in cui a volte sono l'unica ragazza se no ecco dei miei colleghi mi hanno raccontato di aziende in cui si parla tanto di pari opportunità e ci si vanta di riuscire a dare possibilità e strumenti alle donne ma che si fa più che altro per pubblicità per facciata non per degli ideali in cui si crede ad esempio di mail che girano in cui viene scritto viene sottolineato che magari è stata assunta una donna in un certo ruolo magari piuttosto alto raddoppiando il numero di donne all'interno dell'azienda in quel ruolo e quando invece prima magari ce n'era stata appunto solo un'altra quindi ci si vanta ci si vanta perché ci sono magari due donne in quel ruolo in mezzo a cento maschi quindi ecco cose che ti fanno storcere ancora di più il naso che veramente ti fanno ancora più rabbia più che altro ripeto perché sono tutte cose per farsi pubblicità piuttosto che per aiutare davvero le donne infine una volta ero a una conferenza una specie di conferenza diciamo e saremmo stati 15 persone quindi ecco non proprio una conferenza e ecco ad ascoltare questo a questo incontro ero l'unica ragazza e la responsabile delle risorse umane dell'azienda che aveva organizzato questo incontro era contenta che ci fossi ha detto così aumentiamo le quote rosa rosa tutta contenta e a me ad esempio questa frase dà fastidio perché così come non vorrei essere svantaggiata in quanto ragazza non vorrei neanche essere avvantaggiata in quanto ragazza vorrei che non esistessero motivi per dover sottolineare che sono una ragazza oppure no però ecco a volte ancora capita e capita appunto in casi in cui capita tutte le volte in cui si deve sottolineare quanto manchino le figure femminili in quest'ambito ultimissima cosa che non c'entra con l'ambito lavorativo aziendale però ecco quando mi andava mi capitava di uscire di andare in qualche locale o discoteca e mi capitava di conoscere dei ragazzi quando dicevo di studiare matematica la maggior parte delle volte rimanevano stupiti alcuni tra virgolette fuggivano mi dicevano ah ma allora tu sei un genio e non c'è mai capito nulla con la matematica cambiavano totalmente atteggiamento e passavano ecco dalla modalità la tillover a fuggitivo impaurito non tutti però spesso accadeva questo perché comunque ci sono tanti pregiudizi verso le donne che che studiano ancora secondo me che studiano poi materie considerate difficili o comunque materie scientifiche anzi prima di tutto cioè quindi verso le donne che studiano verso donne che studiano materie scientifiche e verso la matematica ancora peggio perché c'è questo pregiudizio che la matematica è difficile che solo qualcuno la può capire e quindi se studi matematica hanno l'area matematica sei un genio e le persone hanno molta soggezione allora prima di arrivare al nocciolo della risposta devo fare una doverosissima premessa come avete capito lavoro in un campo veramente molto di nicchia in ambito scientifico e quindi di per sé è già molto difficile trovare lavoro non importa il genere mi occupo di materie che si collocano al confine tra l'attività professionale nel senso stretto e il campo accademico universitario di ricerca in tutta Italia esistono al massimo 10 15 studi con personale e non liberi professionisti che gravitano intorno a questo settore quindi di per sé i posti di lavoro sono limitati per tutti maschi femmine non importa quindi detto questo devo fare un'ulteriore distinzione quello che succede all'interno del mio studio o in generale tra i colleghi di altri studi e quello che succede quando mi devo approcciare con enti pubblici varie ed eventuali quindi regioni comuni parchi nazionali che sono i nostri principali commettenti nel mio studio io sono come in famiglia è gestito da tre soci tutti uomini ma che hanno scelto di prendere come collaboratori sei donne e un solo umetto siamo tutti con contratti a collaborazione coordinata e continuativa e tutti siamo retribuiti in base agli anni di esperienza in studio non c'è nessuna differenza altra gente né di differenza chi più ha esperienza prende di più fine i miei tre boss non hanno mai fatto nessuna differenza di genere sei competente ti impegni a imparare cose nuove e nel nostro campo come in tanti altri l'esperienza che ti puoi fare solo lavorando è importantissima bene sei dei nostri fine queste sono le cose che ti richiedono i soci in realtà sostengono che per loro esperienza le donne sono più affidabili difficilmente ti lasciano in merda detta come va detta nel ben mezzo di un lavoro questa è la loro filosofia quindi cercano in realtà di scegliere donne tra le loro collaboratrici quindi come accennavo prima noi abbiamo tutti i contratti a collaborazione a coordinate continuativa negli studi professionali è l'unica alternativa alla partita IVA lavorando poi prevalentemente ad appalti pubblici non abbiamo entrate così costanti da poterci permettere un contratto a tempo indeterminato con tutte le spese che ne derivano loro sarebbero in realtà più che contenti di farcelo ma all'interno della nostra economia non ci si salta fuori proprio quindi abbiamo scelto tutti insieme ci hanno consultato a noi abbiamo fatto una grande riunione e quindi abbiamo scelto di mantenere i co-co-co per evitarci lo sbrocco della gestione di una partita IVA ci sono stati anni duri e i tre soci molto spesso hanno scelto di non prendere il loro stipendio per dei mesi pur di fare avere entrati costanti a noi collaboratori in studio siamo tutti a conoscenza di come stanno i conti non ci nascondono niente diciamolo più di così i poveretti non potrebbero proprio fare in questo posto meraviglioso che vi sto descrivendo si festeggiano tutte le future gravidanze anche fosse la quarta si è capitato una mia collega quarta gravidanza da che lavora con me a nessuna di noi ragazze che viaggiamo dai 26 anni ai 43 anni è mai stata fatta nessun tipo di pressione della serie guarda che quando ti scade la maternità non hai più un lavoro assolutamente no mai successo e mai succederà quindi da questo punto di vista sono veramente molto serene poi parlando proprio per me io offro diciamo una buona gamma di bizzarria estetica ho tatuaggi invisibili ho i capelli colorati quasi mezza testa rasata un anello al naso e nessuno mi ha mai detto assolutamente niente anzi quando ho cominciato a lavorare in studio non avevo tatuaggi visibili li avevo solo sulla schiena e in posti non visibili normalmente avevo dei sobrissimi capelli rosso fuoco ma avevo deciso di togliere l'anello al naso per sostituirlo con una più classica pallina giusto per fare il colloquio il primo lavoro serio quando hanno scoperto che l'avevo fatto solo per fare buona impressione a loro mi sono sentita perculare con un ma vaffanculo va quindi questa è la situazione quindi io probabilmente risulto una mosca bianca nell'ambito scientifico e in generale nell'ambito lavorativo italiano da noi si sta bene siamo praticamente una famiglia non si percepisce alcuna gerarchia e cerchiamo sempre tutti di darci una mano anche fuori dall'ambito lavorativo quindi io sono veramente molto contenta però come dicevo arriviamo c'è un tasto dolente non viviamo comunque nel paese di panna e fragola e i problemi cominciano ad arrivare con i nostri commettenti come siamo viste noi ragazze dai committenti sia pubblici che privati è una storia molto diversa ci sono pregiudizi assurdi sulle competenze che possiamo avere noi donne un giorno all'ultimo minuto ho sostituito il mio capo che doveva andare a recuperare la figlia a scuola che non stava bene l'ho sostituito in una riunione relativa a un progetto che gestivamo entrambi quindi nessun problema vado io al posto suo a un certo punto mi sono sentita dire dal dirigente di turno dopo averlo a quanto pare lasciato aperta con spunti a bocca aperta con spunti intelligenti ah ma quindi te non sei la ragioniera silenzio di per te di per sé non ci sarebbe nulla di male a essere la ragioniera ma porca miseria perché si aspettano sempre che noi donne facciamo le segretarie è questo che mi fa incazzare altro esempio una mia collega andando con il mio capo su un cantiere è stata scambiata per sua figlia perché nell'immaginario di tutti gli operai presenti era inconcepibile che ci potesse essere una forestale donna a dirigere il cantiere queste cose sono all'ordine del giorno poi arriviamo proprio al top del sogno una cosa che è capitata a me personalmente un giorno il mio capo torna in ufficio molto incazzato come una bestia proprio lui è la persona più tranquilla del mondo non si arrabbia mai con nessuno quindi mi sono immediatamente preoccupata insomma è saldato fuori che ha dovuto difendere il mio onore e le mie competenze con un dirigente della regione Emilia Romagna che mi aveva definito testuali parole quella con la cresta l'anella al naso e il tatuaggio sul culo nemmeno si era preso la briga di ricordare il mio nome che sono quattro lettere io non ho tatuaggio sul culo ero andata vestita con maglia jeans normalissima questa riunione quindi come mi ha voluto percepire lui è tutta una sua invenzione va bene insomma questi sono pochi casi ma ci sono io sicuramente non smetterò di incazzarmi per queste cose però sapere di avere dei boss che mi coprono le spalle che mi difendono come fosse proprio la loro figlia la loro bambina beh sicuramente mi fa piacere siamo veramente molto coccolate da quel punto di vista allora sicuramente in questa domanda mi impiccerò perché quando parlo per un lungo periodo tendo a divagare ma insomma cerchiamo di fare il meglio possibile allora io in generale nella mia carriera universitaria nonostante le donne siano effettivamente una minoranza soprattutto nella triennale nero spaziale che per dare una proporzione su circa 300 studenti c'erano una ventina di ragazze più o meno a lezione poi alcune magari non frequentavano però più o meno quelle che potevo vedere io erano queste come ordine di grandezza e quindi si in triennale in particolare lavoravamo una minoranza mentre durante la magistrale a meccatronica eravamo molto di più cioè c'era un buon 50-50 c'erano molte molte più ragazze e durante il mio periodo in America non so dire perché qui è tutto molto molto diverso dipende i corsi che scegli quindi in alcuni corsi c'erano effettivamente più ragazze in alcuni meno ma penso che la mia esperienza americana sia rilevante fino a un certo punto poi non mi sono in realtà meschiata molto con le persone di qui perché ci sono un gruppo di persone che hanno partecipato al mio stesso progetto e sono stata più che altro con loro con gli italiani quindi insomma vabbè non era rilevante ma volevo dare un po' di contesto e quindi posso dire che da un punto di vista di professori io almeno non ho visto una differenza di trattamento rilevante tra ragazzi e ragazze c'era un professore che faceva battute sessiste però cioè nel senso secondo me era molto una posa fastidiosa per richiamare l'attenzione perché la materia che faceva era comunque una materia un po' un po' noiosa però insomma sì c'era questa cosa delle battute sessiste è ok e mentre per il resto io devo dire che sia durante la triennale che durante la magistrale ho incontrato persone anche persone splendide però durante la triennale essendoci una netta maggioranza di ragazzi a volte si creava un pochino non so come dire un po' il contesto spogliatoio a lezione non so come definirlo meglio quindi le battute il linguaggio grezzo tutte quelle cose lì proprio che tipici discorsi da spogliatoio da spogliatoio di calcio non so definirli meglio di così adesso non so fare esempi nello specifico perché sono passati due tre anni comunque e è questo poi è successo un'altra volta e questo è una cosa che mi ha colpito moltissimo secondo me proprio per il fatto che non ho non ho avuto molte persone a cioè sottolineare il fatto mio dio fai ingegneria e sei una ragazza che strano in pratica stavamo in giro con dei miei amici e quasi tutti nel nel gruppo di persone con cui ero facevano aero spaziale e erano tutti ragazzi e praticamente incontriamo un amico comune di un altro ragazzo che conoscevamo ci presentiamo e appunto tutti facevano aero spaziale arriva a me io mi presento e lui si gira e fa ah ma fai aero spaziale anche tu allora devi essere intelligente qual è la tua media e io lo guardo tipo super perplessa per dire ma che cazzo di problemi hai cioè nel senso qual è il punto della tua domanda e questa cosa mi è rimasta super impressa ma perché questa è palesemente un caso di sessismo non per voler trovare per forza lo sai la virgola però siamo un gruppo di studenti aerospaziali e io sono l'unica femmina e a tutti non dici un cazzo e sai che fanno aerospaziale a me sei l'unica a cui chiedi la media come dire c'è un problema qui e poi altre cose che mi sono successe ah sì c'è stato con un mio amico di recente una una sorta di sessismo benevolo se vogliamo chiamarlo mi sa che rientri in quella categoria in pratica c'era stavamo chiacchierando e lui fa no le ragazze sono effettivamente molto più preparate degli uomini però se la sanno sanno improvvisare di meno se non sono ben preparate se la cavano peggio hanno più ansia hanno delle performance peggiori e infatti poi lui mi ha fatto tipo infatti io sono rimasto sorpreso perché io qualche giorno prima avevo fatto una presentazione perché non avevo avuto il tempo di prepararmi tra le altre cose perché sono una cazzone sono super disorganizzata e lui fa infatti sono stata sorpresa che a te la come dire la presentazione sia andata bene perché di solito le ragazze se non sono ben preparate non sanno improvvisare ok forse non proprio sessismo benevolo però una cosa di questo tipo e secondo me conoscendo soprattutto la persona con cui stavo parlando qui non è proprio una questione di doppio standard ma è proprio una questione di non aver incontrato direttamente persone o comunque ragazze in un contesto accademico o di progetti o di ricerca e quindi di non lo so di basarsi un pochino su un mix di luoghi comuni e quello che si può vedere magari più o meno dall'esterno e applicarlo fare un po' un mischione e applicarlo a tutti cioè autocrearsi uno stereotipo anche basato sul sentito dire che in fondo è il concetto stesso dello stereotipo e non so pure questa cosa mi è rimasta abbastanza impressa soprattutto perché è venuta da questo mio amico da qui non mi aspettavo un commento del genere e queste sono in realtà tutte le esperienze che ho avuto da un punto di vista più accademico e poi invece all'interno del team io mi sono sempre trovata bene non mi è mai cioè non ho mai visto nessun doppio standard c'era una maggioranza di ragazzi ma posso dire cioè basandomi sulla mia esperienza che non è perché avessero non lo so un bias nel prendere le ragazze perché quando io ho fatto il colloquio per entrare nel team io ho detto in pratica ragazzi io non so fare niente però sono super appassionata del progetto e mi hanno preso quindi mi hanno messo a fare anche una cosa anche piuttosto importante poi ho imparato un sacco stando lì era un ambiente super stimolante e quindi insomma nel senso io ho avuto un'esperienza bellissima invece una mia amica è capitata in un team che era un ambiente super tossico e era un ambiente tossico perché come dire per esempio già indipendentemente dal sesso perché c'era un praticamente un gruppetto di persone che prendeva le decisioni tipo tre quattro tutti i ragazzi o al massimo con forse una che era fidanzata con uno di questo gruppetto e non dicevano le cose e cioè lei era trattata come una schiava in pratica le veniva fatto fare tutto il lavoro non le veniva riconosciuto niente le venivano date scadenze strettissime e lei inizialmente aveva anche stretto abbastanza amicizia con con questi che in pratica prendevano tutte le decisioni perché non si era accorta di quello che stava succedendo se non che a un certo punto sono avvenuti gli screzzi da un punto di vista lavorativo perché lei ha detto sì ragazzi però non potete continuare a darmi le cose all'ultimo minuto oppure a farmi sentire in colpa se voglio andare a lezione o fare cose del genere primo perché ci sono altre persone che lo fanno e nessuno gli dice niente secondo perché io ho bisogno un attimo di tempo per organizzarmi te lo faccio il lavoro te lo faccio anche bene però mi devi dare tempo e quindi da chiamarla praticamente sempre quando uscivano hanno cominciato a escluderla non chiamarla più a derle ancora meno le cose è stata quella è stata davvero una brutta brutta esperienza e infatti come dire non è un'esperienza che auguro a nessuno soprattutto a me è dispiaciuto molto perché la mia esperienza in team è stata meravigliosa e mi trovo questa mia amica che sclerava malissimo e boh una roba come dire una roba un po' di merda questo questo è più o meno tutto quello che posso pensare su questo argomento spero di essere stata esauriente di non essere andata troppo fuori tema di non aver condito troppo gli avvenimenti con le mie impressioni e col mio punto di vista che ovvio sai è impossibile non farlo però non voglio dare una visione troppo parziale a quello che è successo io di esperienze lavorative negative non ne ho per ora però posso raccontare degli episodi accaduti in università che mi hanno coinvolta in prima persona il primo riguarda il mio primo esame orale in realtà addirittura uno dei primi esami della mia carriera universitaria era un esame per cui ero molto agitata ma volevo fare bene perché avevo studiato tanto e mi sentivo preparata vado nello studio del professore dove si tiene l'esame e le cose cominciano già malissimo ho purtroppo difficoltà ad accendere il computer che mi ero portata per svolgere l'esame e il professore comincia a sbuffare e a spazzentirsi mi dice che non ha tutta la giornata e poi che sono stupida perché non riesco ad accendere il computer successivamente cominciano le domande vere e proprie inerenti all'esame sono evidentemente agitata tremo balbetto mi si secca talmente tanto la gola che devo ripetutamente bere dei sorsi d'acqua il professore mi dice che non sto esponendo le cose come dovrei che lui in classe non le ha spiegate così il che può anche essere non ne dubito ma questo non scusa il modo in cui mi ha trattata ha cominciato a dirmi che sono stupida che sono scema che della sua materia non ho capito nulla che non ho studiato a un certo punto mi prese in giro perché continuavo a bere acqua si mise a ridere continuavo a farmi delle domande e a un certo punto mi intimò di tornare un'altra volta perché non mi avrebbe promossa che non meritavo neanche il 18 l'esame arrivò alla fine per fortuna mi offrì un voto molto basso che rifiutai mi alzai uscii e mi misi a piangere questa esperienza una delle prime esperienze d'esame della mia carriera universitaria mi paralizzò completamente non riuscì a ridare questo esame per più di un anno perché ero terrorizzata dall'idea di rivivere l'esperienza e di rivedere questa persona successivamente parlandone con delle mie compagne donne come me abbiamo capito che in realtà era una cosa che faceva spesso entravi nel suo studio ti squadrava un po' vedeva se eri agitata o meno e se ti vedeva in difficoltà se ti vedeva agitata gli piaceva ancora di più metterti in difficoltà oppure cominciare a insultarti non sono stata la prima e neanche l'ultima a cui ho fatto questa cosa ed è una cosa che ha accomunato un po' tutte le mie compagne di corso successivamente ho parlato dell'accaduto con altre mie compagne donne come me che mi hanno riferito le stesse identiche cose gli stessi identici insulti in particolare perché questo non accadeva a tutte gli piaceva andare contro a quelle che vedeva più in difficoltà quelle più agitate tu entravi nel suo ufficio lui ti squadrava in base al fatto se eri più agitato o meno sapeva se poteva divertirsi o no quindi in realtà questo fatto è un fatto che ha accumunato alcune delle studentesse del mio corso purtroppo e molte come me ci sono rimaste male un altro evento di cui posso raccontare riguarda sempre un esame sempre un esame orale ma di una materia completamente diversa con un professore completamente diverso mi recco nel suo studio per fare l'esame porto con me il computer perché si tratta di una presentazione comincio a presentare e il professore fin da subito è spazientito quindi sbuffa guarda in giro addirittura fa altro mentre spiego neanche tre minuti dall'inizio della presentazione che lui mi esittisce mi blocca prende il computer va avanti nella presentazione fino a un punto in cui va bene a lui e senza che io possa dire nulla senza che io possa terminare la presentazione comincia a dire che questo non va bene quell'altro non si fa così che le cose non tornano che non ero capace e comincia a spiegarmi delle cose che secondo lui invece erano corrette probabilmente questo in realtà era il suo lavoro fare le pulci al progetto era effettivamente quello che doveva fare però le cose si possono dire in diversi modi fui toccata personalmente da questa cosa perché ero rimasta scottata dall'esame precedente e e quindi l'ho presa sul personale perché indirettamente quel lavoro rappresentava la mia fatica e il mio impegno mi diede un voto molto basso addirittura abbassando una valutazione data da un altro professore prima di lui accettai perché non volevo più rivivere un'esperienza così e me ne andai la cosa sbalorditiva però non è questa parlai con una mia compagna che diede lo stesso esame e mi raccontò che lei era la terza a dover essere interrogata su un progetto comune fatto con altri due studenti uomini entrano quindi questi due studenti escono con voti molto alti e le congratulazioni del professore entra lei e viene trattata esattamente come vengo trattata io lui è stufo va avanti nella presentazione la sgrida le dice che le cose non vanno bene quando in realtà il progetto è lo stesso dei due studenti entrati prima e le mette un voto molto più basso rispetto a quello dei due suoi compagni entrati prima di lei sì mi è già capitato nel mio piccolo di essere vittima non tanto di aggressioni piuttosto che molestie ma di sono stata spesso screditata o soggetta a pregiudizi per quanto riguarda quelle che sono ed erano le mie capacità nell'ambito scientifico mi sono più volte più volte sentita dire che se io riuscivo in un determinato campo non era per il semplice fatto che io fossi portata per una determinata materia o perché fossi brava ma perché quella materia evidentemente non era così difficile come sembrava perché ovviamente si sa che le donne sono meno intelligenti di un uomo e di conseguenza se ce la fa una donna quella cosa che la donna ha fatto doveva naturalmente essere alla portata di tutti non essere una cosa per cui si dovesse elogiare diciamo le sue capacità e tenerla in considerazione perché effettivamente portata per quel campo e sempre riguardante lo stesso argomento mi è sempre mi è stato detto più volte anche che ovviamente se io riuscivo meglio di un uomo non era sempre per lo stesso motivo perché ero brava perché ero portata per una determinata cosa ma perché ero stata fortunata ero stata fortunata vuoi per la facilità dell'argomento vuoi perché era la mia giornata sì mentre quell'uomo che non aveva ottenuto gli stessi risultati non è che avesse meno capacità perché non è naturale che un uomo abbia meno capacità rispetto a me rispetto a una donna ma perché quella dell'uomo è stata una giornata no visto anche appunto la facilità presunta dell'argomento altre volte invece mi sono sentita dire che riuscivo ad ottenere appunto questi risultati maggiori perché soggetta a favoritismi come se io non mi meritassi determinati riconoscimenti determinate lodi perché effettivamente avevo fatto qualcosa degno di essere lodato ma per il semplice fatto che ero la classica ruffiana la classica ragazza che piace i professori e quindi è normale che riceva delle agevolazioni per il semplice fatto di essere una ragazza magari di essere carina di essere gentile infatti come si sa anche in questo caso se una donna riesce a raggiungere determinati obiettivi o anche in un futuro determinate cariche lavorative non è mai perché è la donna ad essere brava non è mai la donna a meritarselo ma è sempre merito di un uomo che vuoi perché è carina vuoi perché faccia quello che l'uomo vuole è sempre l'uomo che diciamo le concede questo status le concede di vedersi riconosciute queste capacità anche se in realtà non le avrebbe però dai è carina diamole questo contentino fortunatamente ripeto non sono mai stata vittima di molesti e aggressioni più gravi non conosco nemmeno persone che sono state soggette a questo tipo che sono state vittime di questo tipo di comportamenti ma immagino che ce ne siano probabilmente non se ne parla una cosa di cui invece parlo ad esempio con i miei amici con i miei compagni e che mi ha provocato anche in questo caso un senso abbastanza di disagio è stata una volta in cui discutendo con un mio amico un mio compagno della disparità delle donne riconosciute a livello scientifico mi sono dovuta sentir dire che ovviamente non ci sono così tante donne che arrivano a ottenere riconoscimenti premi nell'ambito scientifico non perché ci sia un privilegio maschile ma per il semplice fatto che evidentemente le donne in quel campo non sono brave perché è risaputo che la scienza comunque è meritocratica sotto diversi aspetti e ovviamente non è bastato ripetere più volte cercare di far capire all'altra persona che per quanto vogliamo magari considerare a livelli alti a livelli di premi i riconoscimenti meritocratici il problema sostanziale sta alla base ovvero che tante donne nemmeno accedono riescono ad accedere vengono incentivate ad accedere a certi ambiti scientifici e di conseguenza essendoci una mancanza femminile alla base di ragazze che intraprendono queste strade scientifiche ovviamente il numero di donne che arriveranno a fare carriera o che arriveranno a fare carriera saranno sempre poche saranno sempre meno si spera sempre di più adesso visto che comunque c'è sempre più sensibilità verso le donne nello stem e appunto non è bastato spiegare mille mille volte questo concetto mi si è dovuto sempre spiegare che non era così che non ne sapevo niente che cercavo di vittimizzare delle situazioni che in realtà non esistevano solamente per fare polemica come se io non avessi già subito determinati momenti in cui sono stata screditata e ho pensato di mollare tutto per fare delle materie in cui potessi essere più brava magari ma non perché non fossi brava negli studi e nel lavoro che già facevo quindi le scienze forensi ma per il semplice fatto che qualcun altro pensava che non lo fossi ed è arrivato a farmi credere di far credere anche a me stessa che non fossi effettivamente brava e quindi sono stata trattata un po' come la classica la classica donna femminista arrabbiata che ha da ridire su qualsiasi cosa quando in realtà i problemi non sono così grandi ma non sono così grandi perché la persona che sta dall'altra parte che non li subisce non se ne preoccupa e quindi per lui non esistono ma il fatto che non esistano che per lui non ci siano non vuol dire che non esistano veramente per altre donne altre persone mi posso considerare fortunata sotto questo punto di vista nel senso che le situazioni in cui mi posso essere sentita discriminata o nelle quali ho subito piccole aggressioni sono state poche è anche vero che non ho una grande esperienza lavorativa e lavoro da pochi anni però purtroppo nonostante questi pochi anni qualche esempio posso farlo lo stesso mi vengono in mente due situazioni che coinvolgono due clienti due clienti diversi tra di loro nel primo caso si tratta di un cliente di circa 65 anni che per un periodo tutte le volte che entrava in farmacia e si avvicinava al banco sbirciava e si sporgeva al di là del banco per guardare se sotto il camice io o le mie colleghe chi in quel momento lo stava servendo indossava la gonna o i pantaloni noi sia per gusto personale che per anche praticità a lavorare indossiamo spesso i pantaloni e lui puntualmente tutte le volte diceva questa frase ah voi non dovreste mettere i pantaloni voi siete donne dovreste indossare la gonna i pantaloni sono per gli uomini e queste frasi ovviamente le diceva noi che siamo tutte ragazze e donne ma non le diceva magari alla titolare che invece potrebbe essere sua coetanea l'altra situazione invece coinvolge un cliente ultraottantenne che qualche settimana fa ha avuto si è preso la libertà di commentare come mi stesse la mascherina dicendomi appunto testuali parole sa che la mascherina le sta proprio male sembra un mostro un commento del genere sicuramente se avesse avuto davanti un farmacista uomo non l'avrebbe fatto in entrambi i casi si tratta ovviamente di microaggressioni o comunque di comportamenti che presentano un linguaggio sessista con una forte connotazione maschilista che non solo va a sminuire il mio ruolo da dottoressa e farmacista ma soprattutto va a sminuire il mio ruolo di donna altri esempi vengono magari da racconti di colleghe che mi hanno appunto raccontato che gli è capitato che sempre uomini quindi clienti entrassero in farmacia e invece di dire buongiorno buonasera la dottoressa usassero dei nomignoli quali bimba o tesoro oppure altri clienti che magari con la scusa di chiedere informazioni su farmaci facessero delle allusioni sessuali fino a lasciare bigliettini da visita o numeri di camere d'albergo sul bancone sempre da racconti o comunque vedendo anche quelle che sono le situazioni lavorative in questo momento di colleghe o persone che conosco posso anche diciamo fare riferimento non solo ai clienti ma anche alla realtà del titolare cioè di colui che ti assume soprattutto se si tratta di dipendenti come nel mio caso ci sono ad esempio titolari che preferiscono assumere solamente donne e nel mio campo non è così difficile assumere pochi uomini perché purtroppo per fortuna di farmacisti uomini non ce ne sono tanti però in linea di massima nel momento in cui un titolare decide di assumere solamente donne dietro a questa scelta che potrebbe non essere solamente un caso ci potrebbero essere delle scelte diciamo in qualche modo discriminatorie perché per esempio non so si può pensare che sia più facile chiedere o non fare rispettare determinate cose o non rispettare determinate cose se davanti si ha una donna invece che un uomo oppure anche i casi in cui vengono sono assunte non solo donne ma donne di giovane età quindi donne che magari non hanno figli o famiglia andando a considerare che questa situazione renda la persona che si va a assumere molto più disponibile o con molti meno impegni o limitazioni di una persona che invece ha famiglia e ha dei figli in tutti questi casi dei quali appunto ho parlato per esperienza personale o per racconti o visioni fortunatamente non si hanno degli esempi di aggressioni di molestie vere e proprie cioè vere e proprie nel senso molto forti si tratta più che altro di situazioni in cui ci sono state delle discriminazioni delle disuguaglianze delle microaggressioni che comunque ci fanno vedere come in tutti i lavori ma in base alla mia esperienza soprattutto nell'ambito diciamo della scienza purtroppo le differenze tra uomo e donna sono ancora molte questa domanda si apre veramente il vaso di Pandora perché per fortuna solo all'università ne ho viste di tutti i colori discriminazioni e quant'altro per mia fortuna alle scuole superiori non è mai successo anzi i professori avevano un occhio di riguardo per noi ragazze visto che eravamo poche e sapevano dell'importanza di far appassionare anche quelle poche ragazze che c'erano alla materia e non spaventarle quando sono arrivata all'università l'ambiente non sembrava così male anzi ovviamente l'informatica è una materia prettamente maschile purtroppo ancora non ci sono tante ragazze che si avvicinano e quelle che ci sono spesso e volentieri si spaventano ma è compresa siccome appunto i miei interessi riguardo l'informatica non sono quelli della maggior parte della gente che poi fa informatica cioè la programmazione quindi già quello per me è stato molto difficile far capire che una persona può essere appassionata ad altri ambiti della materia non solo alla programmazione perché con quella trovi da lavorare diciamo che la primissima cosa che è successa è stata durante un ricevimento di un professore io sono andata nel suo ufficio per chiedere dei chiarimenti e una rispiegazione di un argomento che non mi era per niente chiaro e questo professore dopo averla spiegata esattamente come l'aveva spiegata in classe quindi io continuavo a non capire e gli continuavo a chiedere scusi non riesci a spiegarmela in un altro modo perché così non riesco a capire mi ha detto beh signorina se non riesci a capire questa cosa forse è meglio se cambia facoltà e insomma sul momento è stato molto molto difficile ho pianto molto ecco sì ho pianto veramente tanto e da quel momento in poi ho cominciato a vedere tante cose purtroppo per me continuiamo continuiamo sempre con il primo anno durante un compitino io vado per consegnare il compitino all'assistente che c'era in quell'aula perché essendo in tanti ovviamente ci dividevano per aule e vado per consegnare il mio compito all'assistente che c'era lì e questo assistente pensa bene che sia corretto prendermi la mano e tipo accarezzarmi la mano per prendermi il compito io mi tiro indietro istintivamente e lui con questo fare molto ammiccante e molto diciamo poco adatto alla situazione in cui ci si trovava visto che tu in quel momento sei un professore mi dice hai bisogno di una mano per caso sei riuscita a fare anche l'ultimo esercizio essendo quella una materia che a me interessava molto rispondo in maniera molto seccata sì e comunque lei non mi può aiutare è un esame noto quando ritorno al banco dove avevo lasciato le mie cose le raccolgo noto che la ragazza un'altra ragazza insomma che va a consegnare il compito gli succede esattamente le succede esattamente la stessa cosa però non tutti abbiamo la lucidità mentale quindi lei la vedo che si blocca un po' e faccio in modo di passare vicino per uscire dall'aula e questo toglie le mani insomma lo vedevi che era molto seccato dalla situazione sempre la stessa persona l'anno dopo durante un laboratorio io ero seduta come sono seduta adesso su una sedia del laboratorio stavo lavorando il computer del laboratorio e decide bene di mettermi le mani sulle spalle e fare finta di massaggiarmi cosa che sinceramente tu sei sempre in quel momento sei anche un assistente del professore ma in quel momento tu sei una figura diciamo che è lì per insegnare non sei un amico non sei un conoscente non sei nessuno che abbia il diritto di mettermi le mani addosso e io istintivamente ho fatto questo lui si è tolto e gli ho detto no non ho bisogno di nessun aiuto se ne vada per piacere e io da questo ho ricevuto per colpa di questo mio comportamento e ne sono più che certa ho ricevuto una votazione una valutazione insomma molto più bassa nell'esame che poi ho fatto di quella materia e quando io ho fatto quell'esame ho consegnato l'esame e per quella materia il professore non correggeva gli esami ma li correggevano i suoi tre assistenti e le due parti due delle tre parti dell'esame che venivano corrette da due assistenti avevo preso una buona valutazione la parte invece dell'esame in cui che veniva corretta da quest'altro assistente avevo preso una valutazione molto più bassa quindi il mio voto si era obiettivamente abbassato al che io non diciamo che non sono una persona che sta molto lì a piangersi addosso sono andata a chiedere perché avevo preso quel voto e sono andata a vedere il mio esame nell'ufficio del professore il professore mi dice guarda devi aspettare che arrivi l'assistente perché non li ho corretti io gli esami sostanzialmente e io aspetto e intanto il professore prende i fogli l'assistente arriva guarda i fogli mi chiede il nome guarda il mio nome e dice questa frase che ancora nella mia testa risuona ogni tanto anzi spesso risuona dice proprio fuori dai denti davanti ai suoi tre assistenti ah non ci aspettavamo così tanto da una ragazza io lì impazzisco sostanzialmente non alzo un po' la voce e lì è un po' colpa mia perché sono diciamo un po' così non penso tantissimo prima di reagire e in quel momento io ho reagito e gli ho detto scusi urlando un pochino e il professore capisce la boiata che ha detto mi guarda e mi fa eh ma no 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 non intendevo questo io sbagliando reagisco ancora e dico guardi lei intendeva proprio questo e poi ho chiesto le motivazioni della votazione e questo assistente dice beh questo qui sarebbe giusto anche come l'hai fatto tu però non è come lo volevo io insomma adduce scuse un po' del cavolo e io a quel momento era molto alterata e ho deciso vabbè lascio stare e me ne vado per quell'esame dovevamo fare un altro un altro progetto insomma oltre all'esame al laboratorio e quant'altro dovevamo fare un progetto e io e un eravamo in coppia insomma a fare il progetto io e quest'altro mio amico facciamo il progetto un progetto insomma molto bello di cui tra l'altro sono anche molto fiera e lo consegniamo e tutto prendiamo un bel 29 e insomma andiamo alla correzione dove poi ci dicevano il voto e tutto quanto quindi durante la correzione i professori non fregandosene altamente della privacy di tutti i presenti e dicono i voti ad alta voce insomma e ovviamente dicono il voto del progetto e poi il voto dell'esame completo io avendo preso meno nell'esame scritto pure avendo preso un buon voto nel nel progetto mi ritrovo ovviamente un voto più basso però il progetto era stato valutato esattamente uguale sia a me che al mio compagno di progetto perché perché appunto loro non potevano sapere chi aveva fatto di più chi aveva fatto di meno e io in quel momento ho avuto la fortuna estrema di avere il il progetto corretto da un altro assistente non da quell'altro e durante la lettura dei voti salta fuori che ad altri gruppi misti quindi composti da ragazzo e ragazza alla ragazza era stata data una valutazione inferiore nel progetto e lì alcune ragazze che conoscevo insomma sono uscite dall'aula piangendo non capendo la situazione e io istintivamente gli sono un corso dietro gli ho chiesto ma scusa ma perché vi ha dato dei voti così perché vi ha dato dei voti diversi nel senso non è corretto e scopro che anche queste ragazze a cui era stata fatta questa cosa avevano avuto i miei stessi problemi con questo assistente e non avevano avuto il coraggio di parlare con il professore insomma io capisco perfettamente anzi probabilmente adesso come adesso non lo farei neanch'io perché effettivamente non è una cosa facile da fare anzi si possono avere delle belle ripercussioni non essendo nessuno ma solo uno studente al che dopo aver finito la correzione tutto io torno dal professore in quel momento non c'era un altro assistente per fortuna era già andato via e io vado al professore e gli dico guardi professore io personalmente credo che il mio esame sia stato corretto in maniera non equa potrebbe ricorreggermelo lei questo professore si rifiuta di farlo e mi dice è ormai hai accettato quindi così il voto non è che facesse schifo quindi ho detto vabbè lasciamo perdere dopo che lui mi ha registrato l'esame quindi io non avevo più esami con quel professore anche ho deciso di andare e dire insomma andare nel suo ufficio e raccontargli che cosa era successo con questo assistente pur lui pure il professore non essendo gran che avvezzo insomma alle ragazze nell'informatica vista le dichiarazioni che aveva fatto decido di andare comunque da lui dirgli che cosa era successo con questo assistente che non ero l'unica a cui erano successe queste cose e in quel momento ho capito che comunque lui avrebbe preso provvedimenti i provvedimenti sono stati presi per fortuna e quell'assistente non ha più lavorato per lui per me insomma è stata una piccola vittoria diciamo poi un'altra cosa che mi è successa non direttamente a me ma durante una durante una lezione un professore sta spiegando una cosa che in informatica si può tranquillamente chiamare contenitore e in una slide fa vedere dei contenitori da cucina di plastica i contenitori tipo i tupper per mettere via le cose insomma e decide di fare questa battuta che secondo lui era simpatica ad un'aula di vivo presumo sulle 250 persone decide di fare questa battuta simpatica dicendo beh questi contenitori probabilmente le vostre colleghe donne le conoscono molto meglio di voi mostrando dei contenitori da cucina ducendo al fatto che noi siamo più abituate rispetto agli uomini a stare in cuscina non si è mai scusato per questa cosa anzi ha detto anche altre cose che ora sinceramente non mi ricordo però mi ricordo altri momenti di insomma uscite poco carine e diciamo che sì non non sono state delle belle esperienze a cui partecipare in più la parte peggiore in realtà è sempre stata da parte di alcuni compagni di corso che si stupivano magari del fatto che tu potessi fare meglio di loro e questa era la parte diciamo peggiore perché non pensi che un ragazzo della tua età possa arrivare a pensare che perché sei una ragazza non ci arrivi e una cosa che invece mi è successa l'anno scorso sempre durante il come si dice lo sviluppo di un progetto per un altro esame alcuni dei ragazzi con cui erano il gruppo eravamo in quattro e io e un altro abbiamo sviluppato un algoritmo per far stampare una roba e praticamente lui poi l'ha scritto nel linguaggio perché appunto io scrivere in linguaggio di programmazione è una cosa che non mi piace non riesco proprio però pensare all'algoritmo per arrivare a una soluzione è una cosa che invece mi piace veramente tanto quindi assieme abbiamo pensato all'algoritmo poi lui l'ha scritto nel linguaggio della cosa quando c'è stata la insomma quando c'è stata eravamo verso la chiusura del progetto quindi stavamo controllando tutto andando a casa con gli altri tre in macchina sento loro due che parlano e dicono eh sì grazie a quest'altro tizio e per fortuna è grazie a lui che abbiamo l'algoritmo per fare questa cosa e io lì non ho parlato perché non volevo creare problemi non volevo assolutamente avere problemi con delle persone con cui dovevo fare solo quel progetto e poi più nulla e mi sono sentita veramente denigrata perché sinceramente quel quell'algoritmo l'avevamo fatto assieme io e l'altro ragazzo ma ovviamente il merito era stato dato completamente a lui oppure tante altre piccole cose insomma sembrava quasi che mi dovessero rispiegare tutto pur magari avendo preso meglio di loro in alcuni esami oppure altre cose piccole cose piccoli comportamenti dei compagni di corso che ti fanno un po' riflettere e non penseresti mai che siano delle persone che hanno la tua età a fare questi tipi di discriminazioni però purtroppo a me è successo anche questo e come ho già detto ho conosciuto ragazze che hanno subito le mie stesse discriminazioni oppure si sono ritrovate con voti più bassi nei progetti pur avendo fatto loro la gran parte del lavoro solo perché erano ragazze a questo punto non c'erano altre spiegazioni e per fortuna non ho mai avuto delle insomma molestie molto in realtà sì perché quel tizio mi ha messo le mani addosso però diciamo che non è stata una cosa fisicamente tanto tanto impattante e non ho mai sentito di altre ragazze che hanno subito cose peggiori insomma quindi a parte di mettere le mani addosso sulle spalle o cercare di accarezzarti la mano non ho subito altro potrei sembrare sminuendo e sì sto sminuendo cosa che non dovrei fare però diciamo che non ho mai subito molestie più gravi diciamo che sono stata fortunata perché per tutta la 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 scuola superiore non ho mai subito nessun tipo di discriminazione cosa che invece ho sentito tante altre ragazze aver subito purtroppo però le discriminazioni sono arrivate durante l'università anni in cui in teoria non ci dovrebbero essere perché sei lì per studiare e imparare e fare esattamente la stessa cosa che fanno tutti gli altri però a parte queste cose le uniche cose che appunto mi sento di dire in più sono che ho notato una grande differenza di comportamento tra insomma delle persone nei miei confronti rispetto al modo in cui andavo vestita a lezione mi capitava a volte di andare completamente vestita a caso quindi magari anche in tuta o insomma vestita normale comoda e quando andavo così ero trattata normalmente quando invece mi capitava perché magari dovevo uscire con qualcuno poi oppure dovevo semplicemente non lo so andare a una laurea mi è capitato diverse volte oppure volevo solo vestirmi bene perché volevo vestirmi così quel giorno notavo proprio una differenza di comportamento e al che ho deciso di fare degli esperimenti con le persone che conoscevo insomma i modi di cui ti ti parlavano quando quando insomma andavi vestita in un certo modo in un altro e ho notato questa grande differenza cioè quando mi vestivo un po' più femminile notavo proprio che ti parlavano come se tu fossi un po' scema che non riuscivi a capire le cose e invece quando andavi vestita tra virgolette come loro normalmente ti parlavano come se fossi una persona normale uno di loro insomma senza nessun tipo di differenza ecco questa è spero di essermi spiegata in realtà questa è una delle cose che appunto ho notato e un'altra cosa che invece sento di dire era la discriminazione che vedevo nei confronti delle professoresse donne ma non discriminazione ma nel fatto che siccome magari erano prendevano molto oppure erano molto serie nel fare il loro lavoro le consideravano come pazze isteriche oppure diciamo che usavano epiteti poco carini per riferirsi a loro quando invece era un professore uomo a fare esattamente le stesse cose era un grande era un figo era si pretende tanto ma perché è bravo e cose del genere e queste cose sono sempre quelle in cui io poi saltavo fuori e dicevo oh ma ti pare normale nel senso ti pare normale un discorso del genere diciamo che non è facile far ragionare persone che hanno sempre ragionato nel stesso modo e fanno in quelle situazioni fanno un po' branco ecco quindi più o meno questo è tutto spero di essermi spiegata bene allora ho assistito a delle molestie diciamo verbali nei confronti di una mia collega e ho potuto constatare con i miei occhi quanto effettivamente sia difficile parlare in questi casi in cui il contesto è prevalentemente maschile più che altro perché c'è sempre diffidenza nei confronti di una ragazza che dice di aver subito molestie di vario genere perché diventa quasi la voce fuori dal curo che dice vedi che c'è questo problema qua molto spesso si scade nel eh vabbè ma bisogna vedere lei che cosa ha fatto come si festiva se ha fatto qualcosa che poteva far fraintendere cioè sono frasi che ho sentito anche se non c'era margine diciamo di errore cioè era ovvio che lei avesse ragione poi in generale ci sono state a volte battutine ma più degli studenti che dei professori perché i professori sono sempre stati abbastanza tranquilli non hanno mai cioè non sono mai stati non hanno mai diciamo privilegiato i ragazzi rispetto alle ragazze solo un professore che stava facendo un progetto all'università lui era un professore del tecnico e si vedeva perché se si pensa che le donne sono sotto rappresentate in alcune università scientifiche diciamo che in alcuni tecnici non ci sono proprio e era chiarissimo vedendo questo professore perché sostanzialmente lui mi fece tutto un discorso in cui punto era che io non dovevo stare là se ne uscì tipo con chi non sa fare insegna una cosa del genere però in generale ecco questo è l'unico caso perché poi per il resto è più una questione di alcuni studenti che se la tirano e si credono superiori però i professori in generale ho notato che sono sempre stati abbastanza tranquilli diciamo che c'è stata una situazione che per quanto stupida mi ha portato a cambiare il modo di percepire me stessa all'interno del corso di studi una volta mi è capitato di chiedere al tutor delle informazioni ricordo lo svolgimento di un esercizio e lui si è avvicinato mi ha guardato con un'aria di sufficienza ed in modo molto sbrigativo ha cercato di spiegarmi approssimativamente cosa fare insomma quando finisce la spiegazione io non avendo capito ancora alcune cose gli chiedo se per favore me ne puoi spiegare allora lui a quel punto mi guarda come se fossi stupida e mi dice eh vabbè come per dire eh vabbè ma io che ti posso fare e se ne va la cosa sul momento mi ha lasciato un po' confusa però ho deciso di non dargli troppa importanza se non fosse stato proprio per il fatto che subito dopo un ragazzo della fila dietro alla mia gli fa esattamente la stessa domanda allora lì avviene un cambiamento il tutor si è mostrato subito disponibile spiega per bene i passaggi al ragazzo anche più volte e qui insomma incomincio a notare la differenza che non è soltanto dal punto di vista del comportamento ma diciamo che c'è una differenza ancora più problematica se nel mio caso il tutor non ha esitato a farmi sentire stupida nel caso del ragazzo invece si è dimostrato molto più attento a non farlo sentire inadeguato e questa cosa mi ha fatto pensare molto cioè io in quel momento ho compreso che per alcuni risultavo implicitamente fuori luogo e che comunque nella maggior parte dei casi avrei dovuto dimostrare di saper fare di più o comunque meglio di un ragazzo per essere vista come suo pari poi vabbè ho notato anche che durante le conversazioni tecniche tra studenti le opinioni delle ragazze non vengono mai prese veramente in considerazione ovviamente puoi esporre le tue opinioni ma è come se fosse qualcosa di passaggio cioè non viene veramente calcolato più di tanto inoltre ai ragazzi piace molto cercare di spiegarti qualcosa cioè mi è capitato varie volte che magari durante una conversazione dove comunque si dà per assunto che tu determinate cose le sai perché altrimenti non staresti lì a intraprendere la conversazione con loro loro se ne escono cercando di cercando di spiegarti ulteriormente qualcosa anche se tu quella cosa già la sai però diciamo che non amano venire corretti da altre ragazze c'è stato ad esempio c'è stata ad esempio una situazione sempre con un tutor in cui una ragazza si è permessa di correggerlo durante l'esercitazione e lui praticamente invece di verificare se ci fosse effettivamente un errore che sarebbe stata la cosa più semplice e adeguata ha preferito attaccare la ragazza facendola passare per stupida che se pensiamo che ci troviamo in un ambiente universitario io la trovo una cosa veramente grave ancora più grave è stato il fatto che lui ha continuato con questa tiritera fin quando un ragazzo gli ha fatto notare che effettivamente c'era l'errore nell'esercizio solo in quel caso lui si è girato a controllare se l'esercizio fosse sbagliato o meno poi una volta che ha corretto l'esercizio non è che si è scusato con la classe o con la ragazza semplicemente ha ricominciato la sua lezione come nulla fosse diciamo che in generale se ti devono attaccare la prima cosa che attaccano è sicuramente la tua intelligenza mentre per quanto riguarda le persone che non fanno parte del settore ho notato che invece è radicata l'idea che se una donna intraprende un percorso scientifico allora debba essere una donna veramente intelligente tutte le volte che mi viene chiesto quale corso universitario frequento la prima cosa che mi sento dire è ah ma allora devi essere veramente intelligente cioè è una cosa che mi fa un po' arrabbiare perché io non ho mai sentito lo stesso commento fatto da un ragazzo cioè al massimo e si dice che ha fatto una buona scelta che il settore che ha preso è un buon settore perché c'è tantissimo lavoro cioè è come se in generale ci fosse questa convinzione che gli uomini siano naturalmente portati per le scienze mentre le ragazze se decidono di buttarsi in questo campo allora devono essere per forza molto intelligenti che comunque tra parentesi molto intelligenti per essere donne come se di base appunto le donne fossero meno intelligenti degli uomini e poi c'è anche la questione delle proposte di lavoro effettivamente le ragazze ricevono meno proposte di lavoro dopo la laurea rispetto ai ragazzi bene e anche per oggi la puntata dedicata alle ragazze nei campi STEM finisce qui io spero che anche questa puntata sia risultata interessante e direi che noi ci vediamo alla prossima settimana per la conclusione di questa serie che spero insomma vi stia interessante e vi stia piacendo ci sentiamo giù nei commenti perché mi farebbe davvero molto piacere avere un vostro feedback e come sempre perché insomma ci tengo tanto tanto a questo progetto e quindi direi che per questo ci sentiamo giù nei commenti per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao